Ciao amici, benvenuti in una nuova puntata di Radio Tomodaci, benvenuti, oggi è venerdì, oggi è venerdì si chiude la settimana di palinzesto, quasi, anche perché domenica c'è la mega live alla domenica in, ma oggi chiudiamo, prima del mio giorno di riposo che sarà domani, con una puntata all'insegna di un tema che riguarda il mondo videoludico, anzi proprio lo raccoglie quasi tutto, perché parliamo di single player contro multiplayer, cioè, come gioco ai videogiochi, gioco da solo, gioco in compagnia, gioco contro qualcun altro, gioco contro me stesso, cioè rivaleggio contro me stesso, magari cercando di prendere il trofeo di platino su PS5 o completare al 100% Mario Odyssey con 999 lune, voglio scoprire ogni segreto di Diablo 3, voglio sconfiggere per boss Destiny 2 con i miei compari, oppure, non me ne frega un cazzo, tutti i giorni su Apex a sfondà coreani e non mi dovete rompere i coglioni, questo è un po' il punto, ovviamente insieme a me ci saranno, come di consueto, due ospiti, un ospite che ovviamente difenderà, tra virgolette, strenuamente il mondo del single player, un grande pro effettivamente dei giochi single player, soprattutto di un determinato genere o sottogenere, ma ne parleremo insieme a lui, e un gioco, sì un gioco, e un partecipante, un ospite che invece sarà qua a parlare di multiplayer, multiplayer a livelli veramente alti, cioè pro gaming, ovvero vengo pagato e vengo sponsorizzato per fare il culo ai coreani sopraccitati. Quindi darei il benvenuto al buon Powerone, che sta postando la storia proprio qua. Sì, stavo facendo proprio la storia in questo momento, tra le altre cose. Al Mastro, anzi, al fu Mastro, ora Mastro Zeta. Mastro Zeta, Mastro Zeta, perché Mastro non c'era più su Twitch, perché qualcun altro si chiamava Mastro, non lo fare mai. Se lo sono culato. Sì, sì, ma... Dobbiamo reggessare il marchio e fregarlo, no? Mastro trademark, sì, sì. Assolutamente. Vabbè, comunque, allora, io ho chiamato Mastro perché, vabbè, è un amico di vecchia data e soprattutto perché è un mostro, soprattutto nei giochi che appartengono al suo genere. Lui è un, diciamo, un giocatore a livelli alti per quanto riguarda... domani lo dio. Come si chiama? Oddio, l'absurdo assurdo. Incredibile. Qualcuno, il bindaggio di Isacco. Sì, no, vabbè, Isaac lo so, ma... I roguelike. I roguelike. Cazzo, ma che cazzo c'ho nella testa oggi? Sai, cazzo stava pensando in questo momento. Si è perso con i coreani su Aves. Sì, sì, si sta pensando. Ero gonfio di Fiorentina da mi pa, probabilmente, vabbè. Ok, comunque, a parte quello, hai giocato anche tanti altri giochi, oltre ad Isaac, sempre appartenente allo stesso genere, però sul tuo canale cerchi di competere molto con te stesso e di dimostrare che poi riuscirà a fare quella run in quella determinata maniera, che puoi riuscire a completare al 100% un gioco, nel caso di Isaac, a percentuali veramente surreali con tutti i personaggi e anche la versione alternativa di quei personaggi, mentre Giorgio, insomma, è un fissato col multiplayer. Io sparo alla gente. Spari alla gente. Un po' come quelle che fanno noi mass shooting, no, alle squali, no, scherzo. Però nei video giochi. Anche perché ci chiamano tempo 5 minuti. Dio meo. Vabbè, comunque, sì, sei una persona che ama tantissimo i multiplayer, ama competere con gli altri, ami anche Celer, forse un po' più prima rispetto a ora dove ti sei dato un po' la calmata. Esatto, un po' di tranquillità. Stai cercando di scoprire un po' il single player. Sì, ovviamente. Ma è presente Rogue One, no? Quel momento, perché non ritorni così? Faccio una vita tranquilla. Sì, sì, sì. Esatto, esatto. È una vita tranquilla, pacifica. Come c'era una volta in America. Cosa è successo in questi anni? Beh, sono andato a letto presto. Questo è un po' il filo. Vero, vero, sta accadendo. Bene, sì, stiamo diventando dei pantofolari. Sì, sì, giusto prima, appena sono arrivato, mi fa stanotte ho fatto le quattro a giocare un giochino in merda. Però sono andato a letto presto. E siamo già traditi. Esatto. Vabbè, comunque, allora, Mastro, magari ci sono persone che non ti conoscono, che non conoscono Giorgio. Che cosa sei? Che cosa fai su Twitch e soprattutto che tipo di videogiocatore sei? Allora, io sono un giocatore che sia un po' come il nostro grande maestro Sabaku. Per problemi di internet poteva giocare molto poco ai multiplayer e quindi mi sono sempre dedicato ai single player. Un po' per obbligo e un po' per scelta, perché in fondo mi sono sempre piaciuti non la narrativa che c'è dietro, perché tipo a me i giochi molto narrativi non piacciono. Una visual novel non mi piace. Ah, non lo sapevo? No, non mi sono mai piaciuti. Non so perché, ho sempre avuto questa parte di carità. Quindi giochi di Telltale? Di Telltale io giocai solo Borderland perché volevo giocare a quegli altri. Cioè, avevo giocato l'1 e 2, quello che mi mancava per il 3 e quindi ho dovuto giocare obbligatoriamente quello. Però no, non mi sono mai piaciuti. E invece sono sempre stato, da quando conobbi Isaac, per quello conobbi di persona. No, scherzo. Isacco. Il buon Isacco. Quindi ti piacciono i giochi più arcade? Molto più arcade. Che simulano il gettone inserito, il gioco da solo chiuso lì dentro. Anche se c'erano molti giochi arcade dove ovviamente si giocava insieme. Certo, certo. Però ecco, quello ti piace. Cioè, poca trama e tanta azione. Sì, soprattutto tanta azione. Ok. E quindi, cioè, quali sono i tuoi, gli obiettivi di cui sei più fiero in questi anni? Beh, io non sono il prima citato platinatore dei giochi, eccetera. L'unico platino che io ho, chiamiamolo platino, diciamo 100% che io ho, è su Isaac. Perché il gioco, se vuoi completarlo, ti porta, cioè se vuoi esplorarlo tutto, ti porta a completarlo. Perché fin quando non hai sbloccato tutto il gioco, non hai sbloccato tutto il gioco. Anche finché non hai trovato tutti gli oggetti. Esatto, esatto. Quindi, diciamo, è stato un platino obbligato e dovuto e gratuito, perché è arrivato da sé semplicemente giocando. Non sono mai stato uno che va alla ricerca del trofeo, devo avere quel platino di quel gioco, che sia single player o multiplayer. Non mi ha interessato. Ma quante ore hai su Isaac? Allora, io al momento ho su Steam 2000 ore di Isaac. Sì. Poi... Quindi sei andato oltre il platino, cioè sei andato oltre il 100%. Tre volte l'ho fatto. Per avere il salvataggio, cioè per avere il filmatino. Io ho il Dead God, che è il platino di Isaac, c'è Dead God. Sta quasi alle mie ore di Fortnite. Sì, sì. Ma poi un piccolo aneddoto. Quasi. Un piccolo aneddoto. Mi dissero Mastro, non ce ne parli di cancellare il salvataggio. E io ho preso, cancelliamo il salvataggio. Salvataggio con Dead God, mille passa ore. Cancellato. Via, ciao. E l'hai rifatto? Certo. Certo. YOLO. YOLO. Ma come hai fatto a non stancarti mai? Qual è il trucco? Non di Isaac, però. Qual è il trucco per te? Cioè, per non stancarti mai te di quel gioco? Penso Twitch mi abbia aiutato molto in questo. Cioè, la comunicazione con gli altri, il dialogo, il... come posso dire? L'interfacciarsi con un'altra persona, anche se in un single player. Cioè, mi ha ricordato molto come ai tempi si faceva, che ti trovavi al bar dopo scuola, che giocavi a un gioco a casa tua, ti trovavi al bar dopo e dicevi, oh, io qui ho fatto questo, capito? Cioè, mi ha ricordato molto quelle vibes lì di anni fa. Conta, io senza la chat probabilmente alcuni giochi non li avrei mai finiti, non me li sarei mai goduti così tanto a forza di menarmela sul devi giocarlo perché se non l'hai mai giocato, fidati. Dopo un po', a forza di dirmelo, mi sono staccato e ho fatto, va bene, prendo sto gioco. Cioè, tipo, non avrei mai giocato a Seguiro o a God of War 2018. Ecco, là, passiamo a te, Giorgio. Qual è la tua storia? Che tipo di giocatore sei te? Fratello, io sono un nerd che faccio schifo. Cioè, veramente gioco di tutto. Mi piacciono specialmente i giochi di merda. Cioè, sono molta passione a giochi di merda. Per favore. Ah, che so, tipo Valorant, Apex, Fortnite. Beh, però notoriamente non vengono considerati proprio giochi di merda. Eh, sono giochi di merda, sono giochi di merda. Ma che vuol dire? In che senso? È un meme, è un meme. Ah, è un meme. È un meme. Nel senso, mi piacciono i giochi dove si spara, in generale dove si compete più che altro. Ma più che altro perché vengo da una generazione, io vengo, diciamo, dalla scuola Microsoft Xbox, più che quella Sony. Quindi mi ricordo che te giocavi col pad all'inizio. Sì, sì, sì. Però io sono uno di quelli che non ha avuto la PS2. Nel posto della PS2 prese l'Xbox, quella gigantesca, col controller Duke. Non so se avete presente quel controller. Sì, sì, sembrava una roba quasi... Tu immagina il ragazzino di 11 anni che deve tenere un pad che era grosso così. Io non so chi ha fatto il design di quella roba. Un pochino come quello che l'ha fatto per il Nintendo 64, che si aspettava che crescesse un terzo braccio. No, ma si aspettava secondo me un terzo braccio dopo Cern e Bill nelle nuove persone, se no non me lo spiego. Una delle cose che avevo riscontrato di Microsoft, per esempio, rispetto a Sony, è il fatto che c'erano più giochi sparatutto. E c'era la possibilità di giocare in schermo condiviso, che era una cosa che io già facevo però sul Nintendo 64, specialmente con mio padre. Che ne so, 007 GoldenEye o Duke Nukem. Con tuo padre? Sì, sia in co-op che contro, tu rock pure, mi ricordo. Rock è bellissimo ragazzi, devastante quel gioco. E quindi l'Xbox per me con Halo fu amore proprio a prima vista, cioè guardando quello che usciva su PlayStation 2, guardando quello che avrebbe rilasciato Microsoft, io ho fatto subito, ok, cioè Xbox. La mia strada è quella. Datemi subito Halo, fatemi andare a portare la democrazia su altri pianeti, no? Classicone. E che cosa ti ricordi con più affetto di quel periodo? Beh, uno dei momenti più belli è stato probabilmente alle medie, quando con gli altri amici, che pure loro si erano fatti l'Xbox proprio per questo motivo, ci incollavamo un televisore tubo catodico, lo portavamo a casa di un altro amico, uno giocava, che ne so, in camera del mio amico, in quattro giocavano lì, gli altri quattro attaccati con un cavo Ethernet, giocavano, ne so, in salone, sullo schermo che era in salone. In LAN party. E facciamo quattro contro quattro e ci sfondavamo di botte così. E ora che te giochi sempre multiplayer, e stai comunque in chiamata su Discord, prima c'era TeamSpeak, quindi si è tutto spostato online, non ti manca un po' quei tempi, facciamo un po' i boomer della situazione, quei tempi dello schermo condiviso, quei tempi di avere proprio spalla, di essere spalla a spalla a un tuo amico, a tuo fratello, a tuo cugino, insomma. Più o meno, cioè su Twitch ci sono sempre comunque, pure gli amici con cui mi sento, però il fatto è che pure la tecnologia migliora e soprattutto non devo più stare con uno schermino piccolo così, perché prima giocavamo schermo condiviso. Ma come no? Non era bello perdere due o tre gratuitamente. Prima giocavamo ragazzi, schermo condiviso, avevi veramente un... cioè era veramente lo schermo così su cui giocavamo, quindi almeno ora mi godo tutto su uno schermo decente. Cioè è più comodo senza dubbio, però ogni tanto a me manca l'amico accanto con cui picchiammi, magari a picchiammi. No, perché le madonne ce le tiriamo comunque, gli insulti, le flammate e gli screzzi soprattutto. Ma l'odore di sottopalla sudato estivo del tuo amico accanto che non si lava. Eh vabbè, quello è vero, però comunque è un odore che poi puoi ritrovare e ricordare con nostalgia. Esatto. Capito? Che vai sulla nocce con... No, che bontà. Bene. E adesso invece, cioè com'è che vivi il videogioco? Cioè perché ora sei passato un po' più al single player, vuoi esplorare, vuoi uscire un po' dalla tua zona di comfort, ma cos'è che soprattutto ai tempi quando competevi veramente, insomma, gareggiavi, tornei e tutto. Cos'è che ti eccitava di più? Cos'è che ti stimolava a fare sempre meglio? Beh. A parte il premio, la vittoria, flexare e tutto. Ma no, in verità quello non me ne frega niente. Ok. Quindi non è il premio pure perché all'epoca quando giocavo io da piccolino non c'erano neanche i montepremi in denaro, quindi per farti capire. Però sì, ma... Tiravano una galattina. Immagina spiegare a mia madre che stavo spendendo 300 euro per andare, ne so, a Milano a giocare un torneo dove avevi vinto una tastiera, un mouse e un paio di cuffie, quindi manco... E più che altro l'adrenalina di giocare. Cioè in verità il mio obiettivo era arrivare a giocare come un professionista negli stati, quindi come giocano ora attualmente i professionisti, cosa che poi sono riuscito a realizzare quando ho compiuto 18 anni, che sono andato a giocare il mio primo mondiale su Call of Duty. Però quella è l'adrenalina. Salire su un palco davanti a 20.000 persone e lì c'hai la gente che ti urla contro, ti tifa contro, c'hai la gente che non sa chi sei e quando li fai eccitare con una giocata vedi tutto lo stadio che si alza in piedi urlando. È quella, l'adrenalina di andare a giocare dentro uno stadio. Cioè tu non vedi nemmeno a tre metri da te per le luci sparate che hai in faccia, quindi sono tutti NPC da sbloccare praticamente. Però la cosa più bella è quella, la competizione l'adrenalina, il classico citando Eminem, one shot one opportunity. Ok, e non ti manca un po' quel tempo? Un botto. E perché non, perché dici che c'è anche lì un'età un po' come nello sport? Ma quello no, perché ci sono tanti giocatori che ci insegnano che l'età non conta, basti pensare ad Angel di Valorant che ha 34 anni ora e lo scorso anno a 33 anni ha vinto un master, quindi diventando uno dei campioni mondiali di Valorant che è uno dei giochi più difficili da giocare. Quindi non è un fattore d'età, è un fatto magari di cattiveria o di fame che magari può andare a calare, quindi di altri pensieri, perché quando sei più piccolo sei più, non mi è nel termine italiano, reckless, sei più senza paura, no? Sei spavaldo, non pensi alle cose. Ora più che altro dall'altro canto ho tante cose che voglio fare io, che voglio cercare di fare, ho tanti progetti e devo cercarmi anche una stabilità mia in quello che voglio fare. Quindi dici che in Italia una stabilità con una roba del genere è impossibile? No, se no non me ne andavo a giocare all'estero. Io da quando ho compiuto 19-20 anni più o meno sono andato a giocare in squadre straniere, non ho più giocato nelle squadre italiane da lì, me ne sono proprio andato, sono fuggito, se vogliamo dire la verità. Perché erano malgestite o perché... Ma non c'erano i soldi per un salario effettivo da avere con Italia, quindi per dire che oltre i tornei che vincevi, quindi i risultati che portavi a casa, avevi anche un salario che ti dava comunque una stabilità. Allo stesso tempo attualmente per alcuni giochi è impossibile perseguire la carriera dello streamer, quindi su Twitch o comunque del content creator e allo stesso tempo giocare competitivamente. Molti confondono sempre questa cosa, il content creator con il professionista. Attualmente credo che a parte Fortnite, ma nemmeno Fortnite perché chi gioca le finali non streama nemmeno più, non ci sia più nessun gioco dove se tu competi streami anche. Perché dici? Perché ti prende troppo tempo lo stream? Forse ti deconcentra perché comunque devi... No, è più un discorso che dai agli avversari possibilità di, come si dice nel nostro gergo, canter strattare, quindi fare delle strategie basandosi sul token play? Esatto, contro per contrastarti. Quindi è una cosa che succede spesso, il motivo per cui le partite ufficiali non vengono streammate dai giocatori, non si ha nemmeno la comunicazione dei giocatori o se si rilasciano i video delle comunicazioni sono sempre tagliate e quindi non si sa effettivamente quello che si sta dicendo a livello tattico. Proprio perché è un gioco ad altissimo livello dove bastano pochissime cose o leggere determinate cose per sapere come giocare contro gli avversari. Che figata però, eh? E' tipo un controspionaggio. Bravo. No, è successo recentemente, se non sbaglio, nella Lega italiana di Valorant, che sarebbe il Tier 2, come viene definito, in cui quello che era il sostituto, quindi la riserva di una squadra, passava, credo pagato o non lo so, i video degli allenamenti della squadra ad alcune squadre avversarie del campionato. Cioè c'erano le spie all'interno. Esatto, contro lo spionaggio. E questa roba funziona comunque per viaggi. Beh, assolutamente, perché ci sono alcune tattiche, alcune strategie che sono basate su una sorpresa, su un determinato tipo di lancio di abilità, in un determinato modo, si chiamano l'execute quando si fa una determinata cosa, si fa l'execute e si tirano le abilità in un certo modo e tu immagina sapere dove finiranno quelle abilità, come sarà l'entrata, tu sai praticamente come giocare contro. È come se i Jedi avessero saputo qual era l'ordine 66. Esattamente. L'avessero counterato. Esatto, esattamente così. Perché si chiama la strategia, il capitano chiama la strategia o prima c'è stata la chiamata del coach, facciamo questa e gli altri sanno già quello che accadrà. Mastro, lui ha parlato di questa emozione da stati, cioè sentire la gente che ti acclama o ti spregia, ti eccita il duello. Te in che cosa provi queste emozioni quando ti chiudi su un gioco e cerchi di masterarlo in ogni sua caratteristica? C'è un'emozione del genere? Sì, e penso di raggiungere semplicemente raggiungendo l'obiettivo che mi sono posto. Ok. Cioè magari dico, ok voglio, ora parlando di Isaac, voglio fare diciamo il platino di Isaac. Boom, fatto. Ovviamente con bestemmie e madonne e ore soprattutto. Direi. Tentativi. Tentativi, a voglia, certo. E penso semplicemente raggiungendo l'obiettivo io mi sento molto appagato e mi sento allo stadio. Che poi ci sia la mia nonna che mi guarda o 400 persone, mi sento felice e soddisfatto dentro. Che non so se, cioè penso sia la solita soddisfazione che magari puoi provare te vincendo un torneo multiplayer, penso c'è la soddisfazione di aver vinto un qualcosa a cui tenevi, ma che sia nel videogioco o in alto. Si vede pure in chi fa le speed, no? Certo. A volte si vede esultare le persone per i risultati che ottengono nelle speed, a me perché recentemente seguivo un po' di ragazzi su Elden Ring nel primo periodo proprio di uscita del gioco. Lo rompono completamente, è molto affascinante con la parata. A me affascina non solo il fatto che siano velocissime ad arrivare all'obiettivo. A me come ci arrivano, a me c'è un data mining dietro pauroso. Esatto, quello lì è spettacolare e vedere loro come esultano al raggiungimento di una speed run, di un traguardo, è spettacolare. Io pure ho fatto speed run comunque in passato, quindi so benissimo cosa vuol dire. E te hai mai provato a fare speed run, Mastro? Provai a fare delle speed run sia in Isaac, vabbè tanto ormai siamo lì. Ormai è quello. Vabbè tanto siamo in tema, poi martedì c'è anche Macmillan, quindi ormai è proprio la settimana Isaac. Perfetto, direi la settimana Isaac. Sì, sì, sì. Sia in Isaac, ma io non sono mai stato fan delle speed run. Cioè mi piace vederle, mi piace capire come ci arrivano, come arrivano a determinati processi anche mentali per fare determinate cose. Le prove, vedere le prove delle speed run, è allucinante. Però non mi piace farla, cioè provai anche su Hollow Knight, provai su Isaac, provai su tanti giochi. Non mi è mai piaciuto la speed run, perché secondo me il gioco va, non dico che non viene sviscerato, che non viene capito e compreso, anche perché per fare una speed run devi capire tutto di quel gioco, però manca il, come posso dire, manca proprio la bellezza del giocare. Cioè mi togli quello che è bello. È come togliere la storia a un film. Cioè è solo boom, boom, boom. Perché dici, lo fai talmente meccanicamente che non stai giocando, stai semplicemente eseguendo delle operazioni. Meccaniche. Bravo, capito. Meccanicamente proprio parlando è quello. Vabbè, ma alla fine è come giusto che sia, perché tu per arrivare a quello devi giocare comunque anche al gioco normalmente. Io mi ricordo appunto gente che faceva speed run su Elder Ring, che veniva offesa perché diceva, cazzo, ma è uscito da due giorni e te stai già facendo le speed run. Ma lo sai che magari quelli l'hanno ricevuto un mese fa? Esatto. Ci hanno già 400 ore, l'hanno già fatto tutto. Quindi ci sono queste polemiche sulle speed run che ogni volta mi affascinano a vedere come la gente si infiamma. E le speed run però penso sia, se io dovessi da un gioco, senza avere informazioni, trovare quelle strategie, io non so come si potrebbe fare. Io veramente non ho idea di che processo mentale, che processo anche proprio strategico uno abbia bisogno. Guarda, io le facevo su Destiny per esempio le speed run e noi per fare due volte un record mondiale ci siamo inventati delle nuove strategie. Cioè noi, io mi ricordo che noi ci mettevamo là e facevamo questa sezione, come la facciamo? Noi facciamo, che ne so, un nostro amico fa, io col Titano sono in grado di schippare tutta questa sezione da solo, la facevamo. Se noi ora slugghiamo tutti, tu ti fai il ride questa sezione da solo, cercando di non morire e dopo noi riloghiamo, funziona, ce lo valida, no, proviamo. Quindi proviamo, lui riesce, feila, 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 feila e noi stiamo là così, restart. Ad aspettarlo. Eh sì, capita, restart, restart, o sennò rifallo dieci volte, quando ti riesce dieci volte di fila senza sbagliare, andiamo e lo proviamo a fare una run seria, bam, facciamo una run in serie, funziona, noi ci abbiamo messo 27 minuti, proviamo a mandare il record, ce lo valida, no, sì, no, no, ok, dobbiamo trovare un altro modo, come facciamo a fare da tutti e sei se non possiamo sluggare e quindi... E quante ore di... Più o meno, secondo me, noi le volte che ci mettavamo, due o tre giorni più o meno per fare, per cercare un nuovo metodo, cioè di solito sono glitch, dipende poi se si possono usare glitch o exploit ovviamente, dipende dalla tipologia di speedrun che si vuole fare, però il processo è quello, provi e cerchi di spaccare il gioco, cioè con le meccaniche, se tu sai che magari facendo lo scatto in un punto il personaggio sale di tre metri e poi dopo ti si rasetta lo scatto e puoi schippare una zona, devi cercare il modo di portare tutti i giocatori in quel modo di fare, è tutta roba tecnica, diciamo, di provare. Se tu fossi stato da solo, ce l'avessi fatta? Cioè ti ci saresti mai messo e ce l'avessi fatta? Sì, io le sto provando su Minecraft ora. Ah sì, è vero che me l'avevi detto che ti stavi trippando, o tutti prima o poi finiscono le speedrun di Minecraft. O a zero anni, o a novanta, comunque poi si finisce. C'è un bel imbuto. Mi ci sto chiudendo come una bestia, perché mi piace questa cosa, pure perché sennò Minecraft dopo un po' diventa troppo chill per me, mi rilasso troppo e mi viene sonnolenza, perché è bello, stai là, io poi faccio rosso mal pelo. Minecraft è bella per quello, come vuoi, come vuoi. Io poi faccio rosso mal pelo, veramente, sembra che c'ho lo schiavista che mi infrusta ogni volta che esco fuori col carico di materiali, cioè io sono così, però le speedrun mi danno quella vibe in più, devo correre, devo sbrigarmi, c'ho il tempo che ticchetta. Sa come mi si genera il mondo, perché c'è anche quella componente di Minecraft. Infatti ci sono, ora hanno messo addirittura le rank su Minecraft, ho scoperto delle speedrun. Due giocatori entrano in due server separati e tu vedi tramite i traguardi che raggiungono da che punto sono. Ma è una mod o è vera questa cosa? È una roba fatta proprio dai giocatori, ma ufficiale da quello che ho capito, ma tutti la social XQC, Tfew. Ma io ho visto tipo XQC che aveva tipo 15 schermi. No, quello lì è il caricamento, quello è il caricamento, quello è solo il caricamento. Il suo schermo aveva 15 istanze di Minecraft aperte. Bravo, bravo, bravo. Esattamente, esattamente. E si generavano mondi a go-go per vedere se sponava il villaggio. Esatto, esatto. Quelli ti fa vedere il seed che ti può capitare da quello che ho capito io della mappa, o dove comunque sponi, e quindi tu lo vedi e dici provo, continuo, no, che faccio, e così. Ecco, allora voglio farvi una domanda che può riguardare in realtà tutti e due. E la faccio a tutte e due in maniera diversa, perché te facendo tantissimi tentativi, comunque rivedi sempre le stesse cose, no? Ok, Isaac è generato proceduralmente, oggetti diversi, però bene o male è sempre quel gioco, sempre quei tentativi, frustrazione, frustrazione, soddisfazione per poi rientrare in quel giro di frustrazione. Ovviamente se sei bravo riesci a schipparla un po' questa frustrazione qua. Però rivedi sempre lo stesso gioco per tantissime ore. Te invece giochi continuamente quella partita, poi ne perdi o la vinci, riparti, riparti fino ad allenarti allo sfinimento. Come fate tutte le volte a rigenerare in voi l'interesse di giocare sempre a quello stesso titolo? C'è un modo, c'è un trucco? È la voglia di trovare l'oggetto nuovo, è la voglia di vedere come combano gli oggetti ad Isaac, per esempio in altri roguelike, e quindi poi vedi come spezzare il gioco quella volta, oppure c'è altro, e anche nel tuo caso magari... Vuoi andare prima te? Prego, prima lei. Io proprio letteralmente quando mi rompo il cazzo cambio gioco. Chiaro e tondo. Ok, ma... Cioè io sono proprio direttissimo, cioè io competevo su Fortnite, quando mi aveva rotto il cazzo di competere me ne sono andato. Sì, va benissimo, ma per quelle 3.000 ore di Fortnite... Comunque per 3.000 ore è sempre giocata, che è la cazzo di cosa... Non puoi schippare la domanda, Giorgio. Beh, io in verità è lo scontro contro un'altra persona pensante, che è quella la cosa. Ma ora tralasciando le pubbliche di Fortnite, o comunque di altri giochi, la cosa di Tornai Bell è che tu stai giocando con altre persone che si allenano, che praticano e fanno. Quindi è lo scontro tra entità, non lo so, è una roba un pochino... È una roba un pochino di altri tempi, se vogliamo dire. Cioè, cosa vuoi dire di altri tempi? Beh, dai, è quella roba, capito, dei maschi alfa che si scontrano sul campo. C'è un pochino il mio onore in ballo, capito? È quella questione lì. Vedi che poi si torna sempre lì e vuoi dire, cazzo, però non ho fatto il culo. T'ho rotto il culo. Eh, t'ho rotto il culo. Esattamente, proprio alla romana. Quindi è più un discorso di vedere dove posso pure portarmi con le mie abilità. Per quello che magari cambio pure gioco. Perché magari mi sono stufato, vedo un altro gioco che ha delle meccaniche, qualcosa da imparare, voglio imparare quelle cose, voglio portarle all'estremo, voglio scoprirne di nuove. Ok. Allora, io, per esempio, guarda, mi collego a dei discorsi che avete fatto voi, per esempio il discorso della nonna di Mastro. Io, per esempio, ero molto contento da ragazzino quando la mia mamma si fermava lì sul divano, mi guardava, ed ero contento di ottenere... Guarda sto goglione psicopatico. Esatto. Sì, ovviamente, ai tempi poi era tutto un po' diverso, però mi piaceva quando prendevo il cristallo, trovavo la germa segreta in crash, e lei lo scopriva, e poi io andavo dai miei amichetti a rivelare il segreto a tutto con le salvetti, che fu io. No, quindi era stata quella la mia soddisfazione massimo che ho fatto io. L'erudita, capito? L'oracolo. Però allo stesso tempo, quando ascolto te, vengo un po' sempre tramortito dalla paura di competere con gli altri, perché io ho proprio paura della competizione, no? Ma ci sono altri giochi, mica bisogna per forza competere. Lo so, però ogni tanto mi sento di perdere qualcosa. Cioè, magari questa roba qui che dice, ah, mi eccito, cazzo, l'adrenalina, la vittoria, giocare con i miei compagni, se ti si suddisco... Al massimo c'ho la Tomodashi, dove si giova Worms e ci si butta nell'acqua perché siamo dei dementi, e quello mi va benissimo, è stupendo. Però mi manca un po' la competizione seria, però ne sono anche terribilmente spaventato. E però te non dovresti mai giocare a giochi tipo Tarkov o Rastri. No, infatti ci ho provato, ma è impossibile. Sono il male dell'umanità, quei giochi. Sono Tarkov che sul Rastri faccio il buffone tempo tre secondi. Sì, no, più che altro perché quelli sono i giochi che tu giochi per fare del male agli altri, altro che competizione, peggio ancora. Ma quelli sono i giochi per fare del male alle persone, cioè tu godi nel rubare agli altri. Bravo, il tipo, 40 ore lì a farti la casetta, boom. Quello lì è proprio, lo sai che vuol dire, la base dell'umanità, su cui si è fondata tutta l'umanità. Non credo no. Competi su Twitch come streamer? No, ecco, io nemmeno quello, cioè non riesco a provare invidia o rivalità con i miei colleghi, non ce la faccio proprio perché ho il mio mondo, le mie cose, mi diverto. E proprio un po' quello è il succo del discorso. Però scusa, la tua competitività è mai sfociata a livelli tossici? Cioè a un certo punto magari... Quando ero piccolino sì. Cioè in che modo? Quando ero piccolino sì, perché da noi su Call of Duty, vabbè Call of Duty era un ambiente, ora è molto meglio perché è più regolamentato l'e-sport e roba varie, però all'epoca, cioè io mi ricordo di scene di noi che soltiamo in faccia agli avversari, che magari li abbiamo sbattuti fuori dal torneo e tipo facciamo cadere i monitor dal palco. Madonna, sì, ma che cazzo è la guerra. Ci sono i video su YouTube. No, 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 cioè ci credo. Cioè ci sono i video di questa roba, di noi che esultiamo e ci sono io che vedo il monitor cadere e ci faccio cazzo. Come sai che qua ci prendiamo una multa. Tipo cose del genere, però sono capitate queste cose, mi è capitato di vedere roba più estrema, cioè gente che si voleva quasi picchiare, però quelli sono i classici nobbo nobi senza cervello. Però all'epoca sì, esultavamo in faccia alle persone. Poi dopo tipo uno o due annetti che lo facevo ho smesso. Non so per quale motivo, forse sono maturato, sono cresciuto, forse era più gasare i miei compagni che insultare gli avversari. Però il trash talking attualmente è super controllato. Io ho tanta paura di quello. Infatti c'è un utente in chat che si chiama SuperMarco20 mi dice secondo me Dario non ha paura della competizione, ha paura delle persone dietro alla competizione al modo in cui potrebbero prenderla in caso di vittoria sconfitta. Io da piccoletto venivo veramente tanto presso per il culo quando perdevo ai videogiochi, ma anche quando ero agli arcade e perdevo una vita a me da slag. Questa roba l'ho subita tantissimo. E ma è là che tu gli devi fare il culo. Ma io non sono un risulto. Ma bisogna lì trovare... Ma lì mettevi il gettone in più e gli facevi un culo così. Ma che gettone in più? Andavo a girare la tuta con le toppe, non c'eravamo salti per le piagne. Altri gettone. E poi c'è Black Lotus in banca invece, capito? Io avevo una tuta con le toppe. Uno so, con una vita dovevi arrivare. 500 lire è il muto! Praticamente stavi facendo un roguelike involontariamente. Non ce la faccio anche perché io non sono un rissoso, capito? Io posso usare un po' l'ironia, la sagacia così, però non sono uno... Anzi, la subisco parecchio se tutti mi piampi il culo addirittura così, capito? E ma è là che bisogna trovare il modo di zittire gli altri. Come si zittiscono le persone con i risultati? Eh, ho capito, però non tutti siamo capaci di ottenere i risultati che ottenete, Giorgio. Sì, ma se non ci provi nemmeno... Ma capito, io sono arrivato con l'allenamento, non sono dotato di natura, eh? Eh, ho capito, un po' io secondo me devi esserci anche un po'. No, no, non sono stermi. Stermi è un altro dotato proprio a talento. Stermi, qualsiasi gioco, la gioia di Massielli, pure FIFA, per farti capire. Cioè, dio degli FPS che ha vinto su competizioni mondiali, su cinque titoli diversi, e ha vinto pure su FIFA. Qualsiasi cosa tocca... Sì, sì, così, io non è quello. Io quando sono arrivato su PC facevo cagare, cioè io volevo smettere di giocare, perché facevo schifo. Perché passavi dal pad? Esatto, al PC, quindi a forza poi di dire no, ce la faccio, ce la faccio, ce la posso fare, miglioro, spacco, spacco. Bea che mi dice ma continua, prova, che ti frega, vai che tu ce la fai. Alla fine ci sono arrivato. Ma ok. Però devi tentare, cioè non puoi avere paura di fallire. Ma sulle altre cose non ce l'ho, però con i videogiochi forse proprio perché ero piccolino e venivo, cioè veramente la lappoletana che ha puntato, e mi è rimasta un po' dentro, non mi va più via, devi fare un lavoro, psicologico, eccetera. Ma secondo me, io l'ho fatto come terapia d'urto, cioè la gente mi diceva fai schifo, faccio schifo, ok faccio schifo ora. Poi prima o poi non farò più schifo, se mi concentro e guardo i miei errori. E redemption arc. Ma alla fine, come dico sempre, quando noi ci allenavamo, vabbè poi è un mio mantra bruttissimo, cioè io veramente odio perdere più di quanto amo vincere, perché veramente io mi flagello per quando perdo in una maniera incredibile, però per quanto riguarda, se posso dire in generale gli allenamenti e roba varia, se tu vinci tu non stai imparando niente, cioè tu stai insegnando agli avversari, quindi perdere ti serve per imparare qualcosa. Se tu perdi e non ti rendi conto del perché hai perso e ti soffermi su le cose che hai fatto bene, magari, e su, ma che sfiga, di qua non puoi vincere. Ecco, Matinoc, proprio per le persone come te io non riuscirò mai a essere così. Madonna, il trionfo pensionati, Darion, vedi? Cioè il problema è proprio che non riuscite ad accettare il fatto che qualcuno non vuole per forza fa petto petto come la Meriani che poi vengono smitragliati in guerra. Ed è per questo che sta succedendo una cosa orribile nei giochi multiplayer, lo skill-based matchmaking. Che vuol dire? Sta devastando tutto. Cos'è arabo? L'SBMM sta devastando tutti i videogiochi online, perché tutti i videogiochi online, per cercare di mantenere questa cosa, del fatto che tutti possono giocare al gioco e divertirsi, ti fanno vincere mettendoti in delle lobby più simili al tuo livello o più scarse. Però tu, vincendo o giocando bene, cominci a salire di abilità. Quindi ti ritroverai in lobby più difficili. Quindi entri in un ciclo di perdi, perdi, frustrazione. A un certo punto, se tu continui, ritornerai all'inizio. Quindi è un eterno ritorno questa cosa. A meno che non sei così bravo da sfondare questa roba. E quindi andartene fuori da questo ciclo. Ed è un grosso problema, perché prima i videogiochi, se noi pensiamo a MW2, no? Le classiche lobby di MW2, quelle dove succedeva il peggio schifo e ci hanno formato come persone e non siamo diventati dei mostri che body, ispirazione, stampo, estremista, perché è la verità. Beh, in quelle lobby non c'era lo skill-based matchmaking. Tu devi beccare il try-harder che spaccava tutti, lo beccavi, che fai? Prendo questo il game, non me ne fotte un cazzo. O continui a giocare sti cazzi, come va, va. E poi ci sono le ranked, che è quella lì dove provi a metterti in competizione. Ma questo non vuol dire che ti devi frenare da un gioco multiplayer. Motivo per cui, secondo me, tutti i giochi stanno mettendo l'SBMM, fanno entrare le persone in questo circolo e diventano una merda frustrante. Quindi o molli il gioco, o restai in questo eterno ritorno di frustrazione. Ho capito. No, non ci avevo mai pensato a questa roba, ma... Succede da 2018, più o meno, questa roba. Ok. E invece, per quanto riguarda il multiplayer cooperativo, perché anche un'altra branca... Molto bello, certo. Ecco, io quello lo amo, per esempio. È una cosa che mi piace tantissimo perché collaborare con degli altri amici per arrivare a un unico obiettivo mi è sempre piaciuto un botto. Anche i team deathmatch sugli FPS Arena io li ho sempre amati, come su Unreal o i vecchi FPS Arena storici. Sì, al turnamento. Eh sì. E voi avete vissuto sulla vostra pelle quel periodo lì? Perché, per esempio, io mi sono perso tutto WoW, World of War. Nooo. E per come me l'hanno descritto tantissimi amici mi sono perso tanta lana, tanta robetta. Io dal 2004 che gioco a World of Warcraft l'unica espansione che ho saltato è Shadowlands, quindi fai te. World of Warcraft, la parte PvE, è bellissima. Penso, io ci ho avuto solo una digressione in PvP quando sono uscite le Arena, che era in modalità 2v2 e 3v3. Ho giocato lì, ho nerdato fortissimo per arrivare all'SR1, che sarebbe il rank 1 del server per prendere della roba esclusiva. Poi però sono ritornato a fare PvE. Perché il PvE di WoW è veramente figo. Cioè, sono ritornato, è bello scoprire quando ti trovi a fare... A me è una cosa che mi piaceva, sei pure di Destiny, questa cosa, che mi piaceva era arrivare al boss, arrivare all'encounter. È molto vintage come sensazione. Sì, sì. È molto bello arrivare lì e vedi che sponano cose, roba varie, tu devi farò, oddio, che dobbiamo fare qua? Aspetta, ma che è sta roba che mi è arrivata addosso? Allora, proviamo a fare una cosa, dividiamoci in gruppi, mettiamo i mini da una parte, mettiamo i caster dall'altra, l'healer di qua, proviamo a fare questo, allora quando succede questa roba ci muoviamo. Ora è più semplificato. Ma all'epoca che dovevi capire tutto da solo era fantastico. Era un bestemmia, sì. Io giocavo agli MMO, ne ho giocati tantissimi. Ah, ecco, ecco, vedi, a me non hanno mai affascinato. No. Eh, non ce la faccio. Che te sei perso. Io ne ho giocato tantissimi. Allora, se mai arriverai in Italia tra con questi 10, ormai non arriverò mai più, affronterò anche io il genere. Perché MMO? Sì, 10 è l'unico MMO nel RPG. Hanno fatto poco come Final Fantasy. Final Fantasy 14, MMO. Boh, ma così l'hanno buttato? Sì, sì, sì. Io ai tempi giocavo a Cabal, qualcuno forse conosce, Cabal Online, giocavo a Guild Wars. Bello. Il primo è più bello del due. Il primo è molto più bello del due. Perché il due è praticamente WoW e Final Fantasy. Sì, 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 messi assieme. L'uno era stupendo, io le ore passate. Super, PV è quello tra l'altro. Sì, sì, super, super. Io mi ricordo che tutto il mio liceo stava giocando a Guild Wars 1. Perché io e i miei due amici storici che giocavamo a Guild Wars 1, si dice a quello, si dice a quell'altro, praticamente tutto Liti, Ponte d'Era, ha giocato a Guild Wars 1. Ragazzi, tutto il server era proprio noi. Ragazzi, gli MMO ti uniscono in una maniera incredibile. Io mi ricordo quando ero piccolino, sui circa 15-16 anni, che mi ritrovai a fare una scena con quella che era la mia gilda di World of Warcraft. Quelle sono fighissime. Con la gente che è partita da tutta Italia per incontrarci a Roma, per fare una scena tutti assieme. Io ero un pochino un ragazzino piccolino, un po' bullizzato, no? Anzi, in verità, non sapevano che ero piccolino, perché io facevo finta di non avere il microfono. Ok. Perché avevo paura, no? Essendo piccolino, questi magari mi bullizzano. Invece c'era tutta gente super tranquilla, super 3-yarder, ma super tranquilla. Però, secondo me, gli MMO sono un'esperienza che i giocatori di oggi non fanno. E quindi non sanno che cosa vuol dire fare un MMO, essere in un clan, che di solito è un clan in un grande gruppo dove ci sono sia persone che magari tu conosci o con cui tu ti relazioni e ci diventi amico e giochi spesso, ma anche stare in un gruppo che sopravvive assieme. Vero. Nel senso, cioè, poi dipende sempre dai gruppi quanto sono cani, però a me è capitato di stare dentro clan all'epoca di Wolf Vanilla i raid si facevano in 40. Porca miseria. Quindi, come minimo, quelli che erano i clan, le gilde, erano da 60, 70, 80 persone. Madonna, come cazzo facevi a capire qualcosa? No, nei raid c'era vigeva la dittatura. C'era uno che comandava, te fai quello, te fai quello. C'è il raid leader. E come si prendeva il ruolo il leader? Quanto eri bravo, quanto eri vappeciccia con i ruoli più importanti, con gli ufficiali, come gli officer, come venivano chiamati, e così. E poi infatti venivano sempre dati il loot migliore a loro. Perché il main healer deve prendere il loot prima degli altri. Certo, è lui quello che cura di più. Ma anche perché c'è un bambino dieci anni che si approccia alla PlayStation. Ma non ci sono nemmeno giochi. Non c'è l'MMO. Ma non ci sono nemmeno giochi sulle console. E non ci sono nemmeno giochi. Cioè a parte giocare a Fortnite o Apex o COD di giochi online a che giochi su console? Esatto, capito? Cioè un'MMO... Io sono 92. Quando io avevo 16 anni c'era una marea di MMO, una marea di single player, ma una marea. Adesso ora gli MMO sono sempre i soliti tre, grossi, e norsi. Nesce qualcuno che fa garifarmore. Ma vengono ancora giocati? Beh, WoV sì. WoV c'è una cosa fighissima che questo può piacere pure a te sul vanilla che non so se sapete su WoV hanno fatto WoV classic. Quindi ora stanno riprendendo le varie... Ma magari anch'io un giorno, chissà. Hanno preso, hanno praticamente fatto un rework grafico e migliorie, boom. E hanno rimesso dall'inizio e ora ogni anno stanno mettendo le espansioni invece di ognuno ogni due anni. È come se WoV avessero aperto un altro server del 2004. Tornando indietro di quando è uscito e ora stanno a Wrath of the Lich King e la gente hanno iniziato a fare una roba fighissima in America che è WoV Arcore. Se tu muori nel gioco sei morto per sempre e quindi devi cancellare il personaggio e rifarlo. Ah, azzi. WoV Arcore e la gente sta piacendo tantissimo questa cosa. Ci sono video di gente che tipo rispondendo alla chat casca dentro la forgia di Iron Forge e muore. E c'è il peso di giocare al 37 che erano due settimane che stava giocando. È fighissimo. Gente che si unisce in gruppo per cercare di non morire e poi c'è il PvP. Che rositamento però, cazzo. Però è bello, l'Harkore è molto bello. Cosa ne pensi di l'Harkore? Dipende dal gioco. Tipo, se giochi da solo dopo un po' è una rottura di palle. Giocato in gruppo l'Harkore secondo me è figo perché quando c'è c'è quel momento di cameratismo, no? Di quando c'è il tuo compagno che sta soffrendo e tu ti sacrifichi per lui, capito? Abbiamo già citato Erdush già tre volte all'incirca a questa live. Ma in verità quella è una cosa militare. No! Cioè, cameratismo, sì, vabbè, dai. Dukes Counter. Dai, su Tarkov chi non si è mai lanciato sulla granata o ha detto andate avanti li fermo io per far uscire i propri compagni. film americano. È successo un po' di io, sono tantissime volte che io arrivo lascio la mia roba e faccio andate senza di me tipo così per lasciare gli altri. Cioè, succede, ragazzi. Comunque, stavate parlando dell'arcore. È che l'arcore la cosa bella della cosa bella dell'arcore secondo me è giocarlo in gruppo perché ti dà ancora più senso quando ti crepe il compagno. È vero. Ti prende a male. O godi. O godi, se l'hai fatto morire tu per scherzo. Esatto. Succede, però secondo me l'arcore è veramente figa. Diablo, per esempio, io la giocavo in gruppo l'arcore. Io ho giocato difficile tra l'altro. Secondo me è figo. Solo però se giocato in gruppo. Da solo dopo un po' mi annoio. Ci sta. Mi casca di coglioni secondo me. Io non ho mai fatto questa esperienza. Puoi parare Minecraft. No, Minecraft è stato divertente. Ma al core? Sì, avevo fatto anche al core però vabbè era una cazzata. Era molto meme. Sì, però io tanto con Minecraft mi chiudo perché anche lì la gente va giù a cercare diamanti oppure che cazzo ne so, va a cercare il tempio sotterraneo e io mi metto a fare le credenze mi metto a fare le roba. The Sims? Eh sì, mi metto a fare questa roba. La binder di The Sims. Anche perché se no poi loro si fanno la spalla di diamante sanno fanno gli incantamenti un so barancazzo mi girano coglioni allora faccio quello che so fare. La portroncina, il tavolino, cerco il gattino. Il designer. Il designer. Io scavo solo l'ho detto. Io ho veramente il padrone scavito sì, rosso ma il pelo. Dare un bimbo speciale. Minecraft lo vivo molto, molto così. non ci posso fare. Però la collaborazione anche lì tra giocatori, tra amici mi piaceva perché ognuno interpretava il suo ruolo. C'era Nani che si buttava sotto a cercare diamanti che erano ossessionati a quei cazzi diamanti. Data voleva fare tutti i costi gli incantamenti e io ero lì a cercare la porta e si abbinava meglio e il tavolino dentro. E quello è il bello secondo me. Però ecco, a parte rare eccezioni non trovo più un gioco così, un gioco di pura condivisione. È vero. Anche quando abbiamo fatto il server di Rust, no? E un pochino era così e poi tu ti volessi sparare nel muso. Dipende dal gioco. Sto pensando a giochi del genere che danno questa roba di cooperativa che ne so Star Citizen per esempio. Star Citizen è molto figo perché tu essendo tutti sulla stessa nave quello che pilota comunque decide quello che cazzo si fa. Più o meno. Quindi un po' indirizzati si è. Quindi non è che ti puoi proprio perdere nel nulla cosmico e poi è molto carino perché le quest magari richiedono un pochino più di sinergia tra i vari ruoli e quello che si sta facendo. Però effettivamente sandbox del genere dove puoi fare questa roba che c'è DayZ forse non so se c'è mai giocato. Sì, l'ho visto ma mai giocato. Sempre una cosa da russi incazzati nei monti Urali in uno scantinato sotto vodka così però quello è molto carino per esempio tra l'altro secondo me è il prossimo trend videoludico è il survival prossimo trend videoludico Ancora? Multiplayer survival non è ancora perché ancora non è stato esplorato effettivamente Rust è super tossico cioè sono veramente lì tutti i russi su Gabliat che ti fanno le sbastiche sulle porte di casa e dopo ti razzano in 40 mentre stai dormendo The Forest o quella roba lì The Forest secondo me non sono approfonditi abbastanza almeno quello nuovo è di una piattezza incredibile rispetto a quello precedente e DZ secondo me è troppo datato e poi è stato abbandonato dal suo creatore quindi è stato venduto praticamente quindi non ci siamo messi bene devo dire e magari il prossimo trend videoludico sarà quello shooter looter o survival shooter looter cosa c'è tutti vogliono copiare Tarkov tutti vorranno copiare Tarkov quindi i prossimi anni ah ma dici proprio competitivo no 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 proprio nel senso shooter looter cioè tu vai là per trovare la tua roba per sopravvivere e uscire fuori se no survival alla DZ saranno i prossimi trend infatti già ce n'è uno che devono fare che è quello dei portali se non sbaglio che passi da un mondo all'altro con i portali e costruisci la tua base con i mostri giganti altri 47 metri che ti vengono a sfondare di mazzate ma non lo so vediamo a me con la roba lì invece piacerebbe perché ne vanno su usciranno tipo grounded ok ecco a me grounded era rottissimo si incastravano ragni praticamente dappertutto però era molto simpatica l'idea era carina raft è quello che mi è piaciuto più di tutto carino raft a me raft è perché c'era una storia mi è piaciuto tanto da giocare si poi il fatto che sei sperduto nell'acqua che sei nel mare e subnautica subnautica mi ha fatto cazzo però subnautica credo la coppia del primo fosse una mod non credo fosse no no la mod non era ufficiale ecco però un subnautica multiplayer non mi ricordo se below zero era multiplayer non credo però me lo accollerei tantissimo di costruire una base sott'altra è un gioco che si presta bene secondo me a una cooperativa ma scusa non starve together non l'ho mai provato ma quello è già un altro tipo di gioco perché è un cioè come posso dire vabbè quindi lc che hanno fatto c'è anche quella la modalità diciamo di sopravvivenza quello lì è molto più carino però se ti devo dire attualmente quello lì sarà il trend perché day zed io ci ho rigiocato recentemente a day zed e day zed è carino cioè nel senso è molto particolare tipo in alcuni server ti puoi creare pure il tuo accampamento quindi magari ti vai a nascondere in una casa che hai trovato ci sono i video tipo per fare le porte nascoste tipo tutta questa roba per non farti trovare e così via è simpatica come cosa però lo vedremo più approfondito ora perché la richiesta del pubblico sta variando sta andando su quello ci sta ok speriamo anche perché ti ripeto io preferirei una roba del genere che buttarmi in una stanza fammi ammazzare ripetutamente dopo aver fatto quelle due o tre partite con i bot ti becchi in faccia ma non mi piace fare sta roba a me non mi piace ma ti becca la gente è brutto devi uscire un pochino il tuo gorilla silverback in calore ma non ce l'ho il gorilla silverback esatto capito così devi uscire fuori così non ce l'ho io il gorilla silverback con la k però c'è un po' medio orientale questo gorilla silverback va bene Giorgio io ma come ma come fai a vivere così non ce la farei mai perché lui c'ha non ci pensi a quel poveraccio che viene ti beccato e si è impegnato tanto è morto e trova power e ti si è impegnato abbastanza no c'è lo skill base matchmaking ma fai un culo prima l'hai criticato esatto è una merda infatti per quello cazzi tuo hai fatto male a vincere delle partite mi è beccato dovevi essere più dovevi essere più scarsa esatto boh vabbè ecco io quando vedo di Brizz che spacca la scrivania in due su League of Legends io non ce la faccio facco la vita lì ho paura cazzo e invece ricorre ricorre gemette su crash quello mi garba è vero completo con me stesso capito cioè se fallisco è per colpa mia a parte anche il multiplayer è colpa mia esatto però è anche colpa magari di uno ci sta a mille ore in un posto perché c'ho la famiglia a carico e non giochi a quel gioco che vuoi dire ah giovanarte se fai cagare non ci giocare no dai scherzo poi si creano di sidi millenari guardate Renas e Paolo Cannone si vorrebbero strappare le palle a morsi a vicenda anche se ora hanno fatto pace per finta però no per davvero per davvero hanno fatto pace per davvero però perché ora hanno un nemico comune chi è? Briz però è sempre si sono uniti assieme è sempre trovare un nemico io non posso stare a perdere tempo a trovare un nemico di fare come i rapper vabbè tu nel single player crei il nemico immaginario come i rapper adesso vengono tutti sempre sparati a fare cose ma che fanno niente ah dici che sono pose è tutto fumo è tutto fumo c'è sempre il nemico immaginario eh sì un pochino sì posso aprire un attimo un discorso oh voglio vai vai tanto abbiamo ancora 5 minuti circa il riguardo alla cooperativa sì vi faccio un esempio a me se dai un souls like un elder ring un dark souls eccetera e non ti fai almeno le prime tre run da solo a me mi manca qualcosa cioè secondo me quello è un gioco da giocare in solo poi dopo magari ti puoi aprire ti puoi aprire anche a giocare con i compagni io ti guardo ti dico elder ring per me è stata un'esperienza super rilassante cioè io mi sono proprio perso per il mondo di elder ring mi sono fatto 87 ore di fila in 5 giorni sì no ma anche me ci sono chiuso malissimo cioè io ho tirato dritto veramente però io mi sono fatto un film mentale enorme immagino se il mondo di elder ring era il doppio più grande potevo giocarci cop non avevo il cavallo e mi dovevo fermare per che ne so riposarmi dovevo bere dovevo mangiare quindi cacciare gli animali perché ci stanno gli animali costruirmi rifugio io avrei perso la vita ma no ma ci avrei perso la vita con l'amico tipo oh allora tu fai l'arciere io faccio il tank così io dormo te invece stai svegliando mamma mia mamma mia io sarò non sarebbe stato male ma magari prima o poi ci pensa qualcuno malato ci fa la moto tanto ora esce il DLC è quello no è quello magari il DLC possiamo dire che è il gladiatore avendo visto quei campi di spighe è vero qualcosina non ho visto il trailer sono massimo decimo meridie però dato che loro da Dark Souls hanno voluto ampliarsi e migliorarsi facendo che ha molte più features rispetto a Dark Souls magari ti ascoltano in un certo senso ma secondo me non è impossibile come cosa a me piace molto l'esperienza che si crea in alcuni giochi che ho giocato anche in multiplayer tipo Rust mi sono capitati delle situazioni in cui non erano di pvp di sparare oppure su Tarkov non erano di sparare ad altri giocatori ma erano in delle situazioni date dall'IA o dalla sfiga che ho avuto in gioco dal fatto che non mi ero portato dell'equipaggiamento non l'avevo trovato in delle situazioni di difficoltà con i miei compagni in degli ambienti bellissimi in delle situazioni c'era mi ricordo su una mappa che era calata la notte e non si vedeva una mazza dove eravamo noi ed eravamo praticamente persi in un bosco non eravamo più punti di riferimento io ero stato ferito allo stomaco quindi dopo che mi ero ricuscito non avevo più l'idratazione per continuare a correre quindi mi muovevo pianissimo e lui mi precedeva e io me lo perdevo e lui in un certo punto mi fa guarda mi è rimasta questo d'acqua prendila capito quelle scene le stelle questo cielo stellato in un certo punto si è coperta la luna con le nuvole e non si vedeva ancora peggio è figo troviamo dentro una cassa una torcia attacca la torcia all'arma fammi luce cerchiamo di capire dove siamo ok mi ricordo dove siamo lo so io seguimi andiamo di là io queste esperienze mi divertono tantissimo sono come le tendate che facevi con i tuoi amici o andavi magari nella villa abbandonata del paese con la torcia un po' alla montesi bravo non ci deve essere per forza la competizione è vero cioè secondo me queste esperienze possono essere generate anche in un single player o in questo caso in un survival che secondo me sono un genere che ancora non abbiamo esplorato abbastanza e si può fare molto di più ed è per questo che dico tu immagini la stessa esperienza a noi che giochiamo e ci ritroviamo a un certo punto in una situazione di merda e dobbiamo uscire fuori da questa situazione di merda un po' come Raft ma se tu fossi stato da solo con la situazione l'avresti vissuto nella stessa maniera allora se ero con la chat di Twitch a me la sballavo a ridere a fare meme e beh sono anche due approcci diversi certo esatto ovviamente però avendole vissute a volte con degli amici in delle situazioni ancora eravamo nella merda con l'adrenalina a mille perché ci sono i boss che fanno stra paura e ti gridano il russo scablia davai tu stai là tipo porca puttana aiuto stai così oddio non c'è un braccio tipo così è capito cioè me le ricordo queste cose cioè io le mie prime esperienze di Tarkov addirittura che io pensavo di ammazzare i player invece erano bot io me le ricordo ancora oggi e sono molto più belle dell'esperienza che faccio oggi a Tarkov ma da quanti è che giochi a Tarkov? 2018 da prima che diventasse mainstream da giocare o comunque conosciuto anche lì milioni di ore presumo ma in verità c'ho più o meno sulle 2000 ore di gioco quindi non estremo essendo dal 2018 sono cinque anni ormai bene bene nel tempo libero capito? nel tempo libero se ne fosse nel tempo libero ho streaming fino alle 6 del mattino quando vedi il sole fuori fai porca puttana anche oggi però comunque il giorno dopo ritornerai lì a fare la stessa identica cosa tanto ci proviamo sempre ovviamente comunque abbiamo parlato di inizio di che tipo di giocatori siamo chi mi conosce lo sa benissimo è inutile ripetere perderei solo tempo e lo toglierei i miei ospiti abbiamo parlato della nostra situazione attuale videogiocatori abbiamo previsto cosa potrà succedere al multiplayer al single player nei prossimi anni quindi lo sai forse che gioco fonderà tutto questo cioè quello che descrivevi te della luna le nuvole il tuo amico eccetera se si va avanti così dipende da com'è il prossimo titolo forse Zelda diventerà quella roba lì addirittura ma stai parlando di un futuro non questo questo non ancora però forse Tears of Kingdom potrebbe essere il trampolino di lancio di uno Zelda fra tanti anni un po' così dove giochi magari dove te sei Link e l'altro giocatore è Zelda o un altro personaggio e insieme in un certo senso andate in una mappa ancora più grande perché comunque i giochi si evolveranno non si fermeranno lì speriamo che lo levano pure dalla Switch esatto dargli un pochino più di tecnologie con tutto il rispetto auguri e per quanto riguarda invece l'avventura il tipo di gameplay e tutto sarà proprio così cioè l'epica di Zelda la poesia la nostalgia che evoca ogni scelta di Zelda perché tanto su quello punto non sono sempre stati bravi viene raddoppiata dalla condivisione con un amico magari se lo rendono pure più dai Breath of the Wild io mi sono perso nel mondo in una maniera incredibile cioè poi soprattutto il fatto di l'arma mi si rompe devo andarmi a prendere un'arma migliore cosa faccio ce la vado a comprare mi vado a battere quello ecco uno steccolino e il prossimo sarà molto di più con le fusioni il fatto che fondi le robe secondo me sarà un po' Minecraft anche da quel punto di vista comunque una cosa per quanto riguarda single player in verità la strada dei giochi comunque al cork sono quelli che giochi tu alla fine mastro non sta venendo tanto presa per bene perché a parte credo Returnal che comunque è una novità Returnal è un roguelike sì è un roguelike però come è stato fatto c'è comunque terza persona ballettelle eccetera eccetera è difficile che escano giochi del genere cioè la maggior parte sono dei film interattivi è difficile perché il diciamo il il giocatore il casual gamer ok non ci smette mai a fare un'esperienza hardcore o è difficile che lo faccia ma ti perdi certa roba certo te lo perdi ma immaginate il tipo che lavora 10 ore al giorno arriva la sera accende la play si fa una partita a FIFA si fa una partita a LOL si fa una partita per i cazzi suoi è un gioco per i cazzi suoi e poi gli dai tipo diablo tieni hardcore vai arrivederci ma lui dopo due secondi e mezzo te lo chiude va via perché vuole spallarsi noi ragioniamo per cazzi nostri ma esatto hai visto cazzo se ne hai parlato prima prima è massima nei giochi più venduti nel podio c'è due volte FIFA FIFA 2022 e FIFA 2023 prima e terzo posto e poi c'è ancora nella top 10 GTA 5 incredibile che è il quarto incredibile quindi di che parliamo alla fine siamo qua facci le seguine e poi è questo il mondo videoludico vero concreto quello che piace alla gente cioè una persona del genere se gli dai un gioco hardcore in mano non sa cosa fare però secondo me le persone si perdono questo e se tu non sei in grado o non hai il tempo lo puoi sempre recuperare tramite video o comunque però aspetta però ti faccio un esempio io quando ero piccolino non avevo il pc cioè io sognavo di andare sul pc ci sono arrivato solamente nel 2016 sul pc quindi io mi sono perso tantissimi giochi incredibili sul pc ma come facevo a seguirli a vedere a cercare di capire quello che accadeva al mondo videoludico mi seguivo le streaming ma perché tu eri già interessato e avevi anche il tempo per farlo lo sai qual è la cosa che secondo me bisogna anche cercare di essere un pochino più grazie mille di essere un pochino più interessati alla creatività che c'è dietro un gioco perché un gioco come Isaac io sono convinto che se lo faccio vedere al casual player mi dice che è un gioco di merda vero ma sei uno stronzo anche che risata mi dice che è un gioco di merda è vero quando invece è un gioco dove ti cidemi un attimo a soffermare io capisco che i videogiochi sono anche perdita di tempo permettimi tra virgolette nel senso come tutto io mi metto a vedere Natale sul Nilo perché per perdere tempo che cazzo guardi Natale sul Nilo capito mi potrei vedere un film di The Cronenberg capito ma guardo Natale sul Nilo c'è sta oppure il guilty pleasure però secondo me è anche una cosa che bisogna farsi un'idea di quello che c'è sul mercato non per un discorso monetario ma per un discorso ma te la fai Giorgio Power non se la fai il casual gamer lo so fa rosicare ma è così Giorgione non ci si può fare balle sto mondo scopare eccoci è raro comunque forza Napoli sempre allora io direi di far intervenire il nostro gentil pubblico che è stato provinato alle 19 come di consueto e niente lo aspettiamo per i loro interventi oggi c'è un po' di gente forse non riusciremo a parlare con tutti però ci proviamo e accontentiamoli ci proviamo solo che possiamo liquidare i primi così io vattene a fanculo al volo bene quindi chiederemo di fargli entrare se c'è qualche problema fatemi sapere come al solito in chat io cerco di provvedere magari mi sono messo su discord anche se non mi pare benvenuti buonasera eccoci ciao 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 sono Giovanni in arte croze oh croze ciao 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 come stai sono stato qui che eserzoso niente oggi volevo parlare con voi per quanto riguarda diciamo un ambiente del gaming che ha a che fare con il mobile e il mobile gaming cosa e infatti com'è no no non dicevate croze vai pure avanti quindi che ha a che fare con il mobile gaming infatti poco fa ho visto le storie di power che con il flagrante io non posso nemmeno flammarti infatti sono rimasto abbastanza contento perché effettivamente purtroppo il mondo del mobile gaming è sempre stato visto in una maniera molto diciamo negativa dalla community in generale perché è sempre stato visto come un casual game sì il gioco per le mani per il cesso il gioco per le mani per il tre piante di mammelle eccetera come? sì tutte quelle robe diciamo ma nello specifico volevo parlarvi diciamo più o meno della mia esperienza per quanto riguarda i MOBA mobile i MOBA mobile boia c'è anche League of Legends mobile esatto League of Legends ma te giochi ai MOBA mobile? cioè che fa strano anche di è difficile di esatto già soltanto figurati giocarlo in generale però per diverso tempo sono stato un semiprofessionista quindi sono stato sotto contratto con due o tre org per parecchio tempo forse l'unica che potreste conoscere sono gli outplayed sì ecco infatti saluto anche tutto lo staff e il CEO e quindi è iniziata questa avventura con con gli esport in generale dei MOBA mobile con Arena of Valor che praticamente sarebbe questo MOBA che sarebbe la trasposizione occidentale di King of Glory che è un MOBA che nella parte orientale del mondo va tantissimo ma quindi se qua in un certo senso per difenderli per dire ragazzi esiste questa roba scopritela no Crocs Crocs esatto cioè cos'è che ti affascina tantissimo di vista chiuso sul cellulare invece che cazzo ne so di un grande schermo perché giochi sul cellulare invece che sul pc ecco perché la batteria i cazzi mazzi sei a giro il cellulare a 600 mila gradi esatto perché ti intripa così tanto giocare ai MOBA proprio su mobile perché quando ho scoperto League of Legend io non avevo un pc essenzialmente ah ecco vedi quindi sei abituato a giocare così io mi sono sempre interfacciato sui giochi MOBA mobile cioè non per forza MOBA ma mobile in totale quindi per forza di cose non avendo mai diciamo scoperto i multiplayer online per pc mai in menora no adesso sì ovviamente con il tempo ho avuto il mio primo computer e quindi per forza di cose di dove sei? di dove sei? sono sono pugliese vabbè non dire con questo questa nota di vergogna vabbè quindi spacciando lì vicino bari così abbiamo fatto i soldi comprare il primo pc e poi finalmente giocare anche su pc quindi il messaggio di crosses giocate i giochi per telefono provateli valutate i giochi per telefono perché possono essere molto divertenti comode anche forse più facili forse quello che vi va a dire dipende perché ha detto che i viaziati ci spaccano prima come sempre anche perché c'è da dire che il la controparte mobile di lol wild drift non ha nulla da invidiare sia dal punto di vista di meccaniche che per quanto riguarda l'aspetto competitivo e dello spettacolo dei match competitivi quindi ok purtroppo è una lotta che faccio da tanto tempo a cui diciamo adesso io vorrei flammarlo ma cioè io sono peccatore no dopo ieri sera io vorrei flammarti perché io sono sempre stato contro i giochi per il cellulare specialmente quelli online sempre sempre totalmente no sempre stato contro cioè a questo punto preferisco leggere qualcosa o uscire o cacare senza fare niente esatto facendo leggendo magari dietro il bugiardino capito il classicone ieri sono stato peccatore perché ieri stacco la live verso le 11 e qualcosa un amico mio mi fa dai già dato che è staccato vieni a provare questo gioco una settimana che mi rompono il cazzo in chat di provare questo gioco per il cellulare che hanno fatto il porting per pc e proprio io che faccio time out alla gente di 100.000 secondi perché me lo spammano da una settimana e ho detto porco due il tuo ma che gioco è? si chiama farlight 84 che cazzo è? esatto tu immagina pubg apex fortnite fanno un figlio e poi si lo imbottiscono di lsd di speed gli fanno il lavaggio del cervello tipo arancia meccanica così e viene fuori questa roba che potrebbe sembrare come te lo racconto ora come una cozzaglia di merda con tre braccia e così me lo immagino invece viene fuori un essere perfetto una donna ma scusa prea folanzi piace anche a te questo gioco qua oh non ci ho mai giocato ok ecco io ve lo sgancio qua è una bomba sia da cellulare sia da pc è una bomba disumana come gioco io pensavo facesse cagare quella roba tocca premere download stasera io non volevo dirlo perché i miei mi sentivo in colpa dopo averlo flammato per una settimana e dire basta giocare per il cellulare ora ti gioco ti diverti ho fatto le 4 di notte stai dando ragione a Tarantulas ma poi ieri sembravamo dei drogati l'altro amico mio con cui giocavamo lui doveva attaccare alle 7 del mattino e lui tra l'altro compete quindi non solo va a lavoro alle 7 del mattino poi torna a casa si deve allenare e poi vai in streaming perché gioca a Valorant c'era lui come un cazzo di drogato come me sembravamo con l'ultima dose capito dai facciamo un altro dai famo un altro tanto è veloce la partita dai sfondiamo così così e alla fine sono le 4 e tipo oh cazzo sono le 4 io da 3 ore mi sveglio cioè era così ragazzi poi quei giochi lì sul cellulare sono così non te ne accorgi ma non hai capito è fatto è fatto bene è quella la cosa allora lo ho provato non gli diamo una lira cioè il bel ecco a te piace ma è pay to win? no è questa la cosa ma com'è possibile esista un gioco del genere ma costa? no ma come? le microtransazioni sono solo estetiche e non danno bonus visivi perché ci sono le outline ma come puoi? vabbè ok esiste questo gioco e non hai capito a te piacerebbe un botto e lo dico pure per quelli che vogliono provare perché il gioco allora prima di tutto è solo ranked farlight 84 farlight 84 il gioco è solo ranked c'è sia battle royale che la modalità 4 contro 4 però nel battle royale oltre che essere ranked quindi in base al tutorial incontri la gente ci sono due mappe la prima mappa è quella proprio per i babbi di minchia o i bot quindi un'esperienza super tranquilla la seconda mappa ci sono i demoni cioè se tu vai a giocare la seconda mappa ti becchi la gente incazzata proprio forte che si è appena pippata l'adderal ed è pronta a scoparti e insultarti le madri no non è una tv ragazzi ma che ha tv no 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 non è una tv non credo che mi farebbero dire queste cose ma infatti ma poi è entrato Croze cioè che dice queste cose e non c'è che cazzo che ha tv ci sono io che parlo di pippare l'adderal cioè non credo ma poi ha tv ma chiavelli a livelli improponibili c'è pubblicità occulta totale però sul serio provatelo come gioco perché è un'esperienza per chi vuole provare il multiplayer se giochi la prima mappa è rilassante comunque del multiplayer la seconda se vuoi giocare incazzato come una bestia a picchiati e ora però ti faccio una domanda ma hai giocato ho giocato solo la partita sulla prima mappa se chiedi no no la domanda è ti sei ricreduto adesso un botto un botto ci sono rimaste infatti l'ho detto subito mi tocca scaricare Wilds Rift quello non è male ma non è il piace League of Legends non ce l'ha fu a me piace no no a me piace non piacciono i giochi dove ripeto continuamente sensazioni forse anche questo è il mio problema comunque se Farlight ci volesse pagare Dari è disponibilissimo per fare la sua prima prova ormai si parla a sei cifre va bene Crofalas grazie mille di aver partecipato ti abbraccio alla grande un saludo ehi l'hanno cacciato così no 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 c'è no stavo per dire tipo Dario ti voglio bene ACA rimettiti turbantolus rimettimelo dentro ma cosa stavo per dire tipo ti voglio bene Dario mi hai salvato tipo dalla depressione grazie Croppe stava tipo per fare un omicidio di massa e tu l'hai salvato da fare questa scelta vabbè prossimo ospite Croce ti scrivo dopo tanto so qual è il tuo contatto se sempre il gruppo vai vai prossimo utenter ciao user eccoci ah Croce dimmi un po' cosa mi stavi per dire eh niente Dario io volevo volevo darti un piccolo consiglio dimmi ok cioè ora non so dipende da te se vuoi seguirlo o meno è una maestra vabbè dammelo vai una pillola di vita voglio capire come mai non hai ancora fatto realizzare ad olio di semi una sigla per Radio Tomodaci eh grazie turbantibus noi speravamo una cosa carina sì esatto sì ma vattene affanculo Croce dai bandami questo stronzo dai passamene un altro finito nel gulag sì ciao buonasera a tutti ciao ciao user io già conosco Dario Mastro mi chiamo sono Buzz quindi Buzz come stai Bazzone bene bene ma dove stai parlando dal chess nascosto sì sì ma sei sul cellulare a giocare a Fortnite è tipo in discoteca capito dai nel bagno vai dicci tutto Bazzone vabbè no niente in realtà io sono qui volevo un attimo agganciarmi al discorso che aveva fatto prima che avevano fatto prima Power ma anche Mastro sul sull'adrenalina no che magari Giorgio prova durante un torneo ufficiale così è per questo che non mi drogo io magari provo quando cerco di prendere un trofeo difficile adesso due giorni fa ho fatto il platino di Devil May Cry 5 che mi sei un platinatore te sì esatto come te sono fissato tanto con i platini io ho un po' calato prima ve lo platinavo tutto ora solamente le cose che mi piacciono veramente tanto esatto quello che sto facendo adesso anch'io in realtà volevo anche parlarvi di una cosa di alcuni trofei ok che di magari giochi fatti single player che però avevano inspiegabilmente i trofei online oddio che merda che schifo che stupido magari vabbè lo mi ho conosciuto anche in Uncharted c'erano Uncharted 4 quando uscì e io lo giocai molto dopo l'uscita ma c'era il pvp anche su Uncharted 4 c'era la cosa più inutile della terra pensateci hanno investito i soldi per farlo eh sì figurati e niente presi tutti i trofei però arrivai a fare quelli online e non c'era nessuno per giocare quindi ah perché magari li hai fatti tardi nel tempo no perché non ci giocava più nessuno eh dico hanno smesso di giocarti cazzo non potevi portarli a casa quindi eh quindi ciao un altro esempio anche se non è magari non ricordo se era online un gioco che secondo me ha Dario a testa molto a cuore è Rayman Legends ah ma la miticagine di merda quel trofeo del cazzo del calcio no di fare il gioco no comunque con food mi importa una sega ma c'era il coso c'era il trofeo della miticagine che non sono mai riuscito a prendere perché erano tutte sfide e la gente rompeva il gioco faceva tipo 10 miliardi di metri non potevi mai raggiungerti e ti ci voleva tipo 4 mesi di sfide tutti i giorni esatto anche quello lì in un platform poi single player ma che cazzo cioè multiplayer però insomma era una roba più da single player ragazzi voi non avete mai provato secondo me l'esperienza a me i trofei online mi stanno bene se l'interno gioco quindi la tua è una protesta contro i trofei online è certo basta trofei online Sony Sony toglili Buzz è incazzato come un mostro ma Sony ti era un po' stacca pure online di questo Buzz con le release segui un attimo e niente in realtà era una cosa così veloce voglio solo dire questo grazie mille se c'è mai stato un gioco online o single player in realtà non fa differenza che vi ha fatto dannare l'anima per ottenere un trofeo un obiettivo o un traguardo che vi siete imposti di raggiungerlo io ve lo ricordo molto bene Bird by Sleep è dover prendere tutto al 100% con i tre personaggi per ottenere il completamento del diario quello è veramente l'inferno sceso in terra e poi anche io ho una roba che secondo me è ancora più complessa alo 2 laso leggendario old school on ah ok una roba che non non so nemmeno cosa sia praticamente fare no era alo 3 mi pare o era alo 2 non ricordo praticamente tuvi giocare al leggendario che già era una roba allucinante all'epoca ma con tutti i teschi che sono dei modificatori che tipo che ne so tutte le armi ti one shottano tutti gli attacchi ti one shottano se muori se muori perdi il salvataggio devi restartare così quello mi ha fatto ammazzare non mi ricordo se era sul 3 o sul 2 che l'avevo fatto e stavo impazzendo dovevi fare una no hit diciamo sì praticamente sì poi su alo che invece è un gioco in cui debuti in mezzo alla gente comunque ti dicono il 2 era il 2 era il 2 mamma mia quello lì mi ricordo per farlo impazzì bazzone grazie mille ti abbraccio grazie a voi ciao ciao oggi ti sei fissato con questa cosa io invece comunque su isaac un trofeo insomma un personaggio per me mi fece parlare tantissimo era keeper prima dell'ultimo dlc cosa è successo chi l'è chi sei ciao sono jguides ciao 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 ragazzi ola come stai bene bene tutto bene grazie allora io avrei una domanda per giorgio oh no eh sì vorrei capire diciamo quanto influisce la dote naturale su poi sulla performance nel senso ma nel senso sono un giocatore assiduo di fortnite ok mi alleno il più possibile però poi arrivo fino a un certo punto e mi fermo nel senso più di lì non riesco ad andare allora se non sei talentuoso di natura non ti hanno donato le mani come le hanno donate Ostermi esiste solo una cosa metti la cera togli la cera è l'unica cosa e dipende quanto lo vuoi arrivare a quel risultato soprattutto perché se non riesci a fare una cosa almeno io ragiono così non so fare questa cosa voglio farla sì no prima cosa poi la seconda cosa è quanto voglio fare quella cosa cioè nel senso io domani voglio suonare il violino ok cerco di farti questo esempio così e voglio cercare di arrivare a fare il calabrone si chiama così giusto quella lì dai non me lo ricordo ho fatto violino ma non mi ricordo una sega sono allergico non peggio aiuto allora e praticamente la cosa è quanto voglio arrivare il calabrone quanto voglio arrivare io a fare quella cosa cioè quanto ci tengo ad arrivare a fare quella cosa cioè ti devi dare anche tu una sorta di di obiettivo e quanto tu lo vuoi andare a fare perché se per te non è la cosa primaria è difficile superare i propri limiti no cioè pure Goku è dovuto schioppa Krillin prima di superare il solino ma non userei Dragon Ball come esempio sì c'è l'esempio invece più classico che si può fare perché tutti lo conoscono cioè ti serve un qualcosa a meno che non ti arriva una cosa ma non è che può scoppiarsi un miglior amico per diventare un bravo giocatore perché magari il suo miglior amico gli ha detto che lui ci teneva tantissimo ad arrivare a quella cosa prima di morire però perché lui non ci tiene così tanto dipende quanto ci tieni qui non tieni alla tua amicizia no ci vuole no ora a parte le cavolate ci vuole dedizione costanza e sacrificio per arrivare ad un obiettivo specialmente se è una cosa difficile da fare non esistono altre cose se tu dici che non riesci vuol dire che ti devi mettere ancora di più sotto devi sacrificare qualcosa per arrivare lì magari più tempo ti serve magari devi concentrarti di più a fare una determinata cosa ti devi far venire le tendiniti e poi soprattutto la costanza darti una schedule questa cosa me la disse anche Danny Lazzarin se non ti vuoi fare fisico vuol dire che non ti interessa e chi è che gliel'ha insegnato a Danny Lazzarin? non penso questa mi sa che è la stronzata eh dici un po' ma quindi secondo voi una dode naturale non serve aiuta ma non è necessaria dai chi ha la dode naturale poi si adagia sugli allori cazzate ok no no perché io veramente cioè mi ci sono messo per ore e ore cioè mi rendo conto che arrivavo fino a un certo punto e oltre a quel punto non riuscivo ad andare qual è quel punto? perché prevalentemente mi applicavo su quello poi non so lui aspetta qual è quel punto che dici tu? fino a che punto ti sei allenato? cioè fino a dove sei arrivato? qual era il tuo metro di balagone? considera che io la metà della giornata la usavo per lavorare e tutto il resto della giornata la usavo per allenarmi è parecchia roba per dormire naturalmente e qual è il risultato a cui vuoi arrivare però? ma io cioè io prendevo te come esempio però mi rendo conto anche che ma io so tre anni che non competo più su Fortnite quindi se prendi me come esempio è sbagliato perché io giocavo a cazzo no vabbè lascia perdere lascia perdere la competizione che mi rendo conto che arrivare a un livello competitivo è molto complicato però già arrivare a un livello molto alto per me era un obiettivo però poi ecco capito in delle lobby in cui non riesco ad eccellere come ti posso dire? allora però devi pensare una cosa ok per livello molto alto cosa intendi? stai giocando poi a un Battle Royale la bravura del giocatore nel Battle Royale non è fare sempre lo stesso risultato perché non lo puoi fare non puoi arrivare sempre primo in tutte e dieci le partite per esempio di un torneo sta in base a quanto tu riduci la randomicità all'interno di un match come si riduce la randomicità? da quello che trovi da quante persone si troppano intorno a te dal percorso che tu fai dal percorso che ha fatto il bus durante il tragitto è così che si ragiona nel torneo cioè devi analizzare delle cose che vanno al di fuori delle pure meccaniche dell'allenamento sono delle cose mentali di strategia non esiste solo l'allenamento non puoi pensare di è come se tu sei bravissima a calciare in porta ma se poi tu calci ogni volta quando c'hai davanti quattro persone che ti stoppano la palla prima che arriva al portiere è inutile che tu sappia calciare devi analizzare mille cose ci sono mille pensieri che tu devi fare quando giochi che vanno a ridurre la randomicità del gioco che ti portano quindi a una costanza nel piazzamento questo almeno a livello di torneo e nei tornei è impossibile vincere per esempio in un FNCS nessuno ha mai vinto più di tre partite su dieci di torneo in verità ora sono sette credo cosa ne pensi di questo J-Cross? no 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 ok il punto era capire se secondo appunto Giorgio che ha più esperienza dal punto di vista competitivo servisse una una dote naturale però ecco già no no vi rompiamo il culo a quelli con la donna naturale perché si adagiano sugli allori lo ripeterò sempre no no hard work pays always off che volevo capire io non ti so aiutare da questo punto di vista scusami J-Sals no proprio non so un cazzo vai tranquillo vabbè poi per concludere volevo dire una cosa fuori in Roma dai Giorgio non so se hai cenato ma se devi ancora cenare assaggiagli gnocchi all'olio di da ma perché sei tutti fissati con questa stronzata perché hai ritornato fuori gli gnocchi all'olio anche la scorsa settimana sta puttana però il risotto quello lì al gin era una bomba ma che c'entra me l'ho fatto io nemmeno gli gnocchi all'olio sì sì quello mi feci io infatti tu cos'è sta storia ma lascia stare comunque grazie sì immagino l'olio un saluto un stellone in bocca al lupo allora sugu saluto ciao 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 già subito subito l'hanno spinto all'olio istantaneo stavo già parlando ciao ragazzi siete bene sì sì a voi tutto bene dici tutto sono Got Michael Gianmarco se volete siete Got per comodità vabbè prima di tutto visto che sono fatti pochi ci tenevo a fare un saluto al mio amico Gioele Fabiani oh ma avete rotto il cazzo ma fai anche il cognome perché siamo in caserma oh al volo al volo al volo al volo vabbè comunque più che altro è una sorta di domanda mista ad una specie di riflessione che più che sul gaming in sé è più sull'evoluzione del contenuto online legato ai gaming ok quindi partendo da YouTube ma parli di Twitch ah ok no no più che altro vorrei partire da YouTube perché se ci se andiamo ad analizzare tra virgolette quello che era al tempo notiamo che effettivamente il gaming online era nato con i walkthrough quindi vabbè ovviamente ciccio gamer esponente chiave però non so se ve lo ricordate c'era quel tale ale ragazzi certo 15 miliardi di video non so come cazzo faceva tutti i giochi del mondo platinati online su YouTube vabbè dilagando andando avanti però è iniziato ad emergere sempre di più il portare contenuti online perché questa pausa lunga vorrà no no vai evidenziare una reazione magari ti eri inciampato un attimo sì sì vai comunque sono esplosi sempre di più prima con i commentari quindi la roba gods me la godo sì e poi vabbè sempre di più mi ricordo in particolare con il periodo di Yotobi dove giocava agli albori di Twitch Italia in live con i propri anche con il suo con Yotizio Games se ti ricordi sì 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 certo termosifoni non so questa lore eh tempi andate io guardavo la roba straniera mi dispiace no comunque vabbè iniziavo a giocare con i fan in live successivamente andando avanti poi ovviamente la consecrazione è arrivata prima con PUBG PlayerUnknown e poi con Fortnite quindi esplosione totale del contenuto gaming online ok però questo documentario per arrivare a cosa sì sì no adesso arrivo sì sì no ho sentito però questo vabbè va bene allora il punto è secondo voi si è arrivato a questo punto quindi il cambiamento da gioco single player a gioco multiplayer come il più richiesto ovunque dai content creator dal pubblico perché c'è stata più richiesta da parte del pubblico quindi magari c'è una maggiore voglia da parte del pubblico di giocare con i creator di interagire e di far parte di quello che guardano tutti i giorni o magari è più l'interazione voluta proprio dai creator che si sono rotti il cazzo di portare per forza i giochi pesanti non gliele frega un cazzo e vogliono fare i giochi cazzoni perdere tempo farsi due risate con gli amici casseggiare o volendo anche portare il mondo del pro gaming allenandosi online questa cosa qui quindi secondo voi che ha fatto nascere questo cambiamento io penso che io penso che sia proprio la voglia di interfacciarsi con qualcuno a livello proprio di gioco capito come hai detto te prima ora non mi ricordo il termine che ho usato ma penso proprio che sia l'interazione che c'è fra le persone perché se parlo per me se io devo giocare un gioco single player me lo gioco da solo capito cioè se io mi voglio godere quella storia se mi voglio godere quella cosa me lo faccio da solo sì non me lo vado a spoilerare ecco bravo ho capito cioè io quando uscì Elden Ring io chiusi ogni singola internet per me non è esistito io non ho visto nemmeno i trailer io nemmeno io vado così per tutto ormai io non guardo né trailer né niente stessa cosa stessa cosa capito quindi cioè io penso che non perché ci sia più richiesta da parte del pubblico del multiplayer come come gioco base ma penso l'interazione che si viene a creare sia fra i content creator sia fra il pubblico sia fra proprio fra amici giocando a un gioco multiplayer è maggiore rispetto ora come ora è maggiore rispetto a quella di un gioco single player per come la vedo io io se posso dire la mia credo che la gente si rompa il cazzo a vedere me che sto facendo praticamente un buco in una montagna e creando il nuovo CERN su Minecraft a un certo punto credo che la gente si sia rotta il cazzo sei abitudinario o ti si è rotta le palle secondo me scusatemi e credo che a un certo punto voglia vedere quello che ti comincia a urlare tipo una scimmia ti caga in testa la gente o bullizza gli altri perché ci sta fai meme al massimo io credo che nei single player o fai le scimmiate come faccio io che io prendo per il culo il gioco a cui gioco tipo quando giocavo Hogwarts Legacy perché anche a me piace molto fare quello anche i giochi per cui faccio a dv ma pure io ma infatti la cosa per esempio di Hogwarts Legacy che mi sono divertito di più lo raccontavo prima a Mastro era io dai combattimenti erano di una noia mortale cioè erano veramente una smandruppata di coglioni che non mi era mai capitata di vedere in un videogioco e ce n'erano tantissimi io mi mettevo la musica funk fino a che non arrivava il drop della musica dove andare in chat walk e solamente parare e schivare piano piano e quando partiva il drop della musica dove andare a tempo di musica con gli attacchi e le schivate cioè io credo che sia quello con Hogwarts Legacy esattamente si era diventato un rhythm game praticamente ma perché questo perché il gioco secondo me pure secondo me per dare una vita al gioco ma poi si può dire una cosa ragazzi sono da 4 anni che escono la maggior parte dei giochi che fanno vomitare o sul lato artistico fanno cagare o sul lato tecnico fanno cagare ma chi? i giochi che stanno uscendo negli ultimi anni ma che cazzo ne escono pochissimo ne escono pochissimi ma questa è una puttanata ne escono ne uscirà una all'anno non è vero ma mai sono d'accordo ne esce una all'anno ne esce una all'anno si ma dai il gioco dell'anno degli ultimi 10 ma quando è passato il covid assolutamente no infatti è uscito Hogwarts Legacy ma che c'entra Hogwarts Legacy se parliamo di mercato indie è pieno di roba senza senso mercato indie aspetta se parliamo di mercato indie che è un mercato di nicchia no quello c'è roba incredibile io ho giocato in questi anni anche Cold War non è un brutto gioco dai ragazzo rispetto al 2018 no capito però è comunque un bel gioco cioè ora a pretendere la perfezione e pretendere il gioco da 10 è colpa della critica secondo me vabbè quella è la critica da 10 a tutto dai ultimamente stanno facendo un po' più puzzolenti per cercare di differenziarsi la massa e fare più click al contrario però a parte questo ci stanno a provare leggi lord la critica fa leggi lord è perché fa più click di fare 10 perché ora 10 lo danno tutti lo davano tutti dopo il The Ring però comunque God of War Ragnarok non è stato assolutamente un brutto gioco per me ma ce ne sono tantissimi veramente che ho giocato no no non è stato brutto però è un gioco mid cioè nel senso ci sta quello del 2018 è un'esplosione incredibile progettavo anche le basi per qualcosa di meglio però quel meglio che non è arrivato per me però comunque bastardi però non mi sono molto divertito ma secondo me è da anni che in verità stanno cavalcando l'onda e giochi di qualità che alla gente interessa capitano raramente attualmente non so dipende anche quanto io parlo io parlo i Rush che ora io non l'ho ancora giocato molto bello l'ho visto giocare sembra veramente bello e nuovo però anche lì da dove viene viene dal triple A o viene da indie sì vabbè mezzo e mezzo anche lì però dipende c'è roba che anche di Alcd Cup che io considero quasi un Cup 2 una bomba cioè dipende c'è tanta roba poi bisogna anche informarsi bisogna buttarsi dentro tutte le robe però secondo me c'è attualmente molto riciclo ed è uno dei motivi per cui la gente si sta interessando di me nel single player perché dice boh a questo punto io me lo gioco e sti cavoli quindi si perde secondo me pure quell'effetto di giocarlo con un'altra persona e commentarlo sì ma non è che nel multiplayer ci sia molto più no multiplayer ma multiplayer è tutto microtransazione cioè cosa sta uscendo oh dai comprate questa roba non la vuoi entri nel gioco fai play e fai dai piate pure questa lo vuoi questo e so così ragazzi ora i multiplayer scusatemi se posso permettermi penso influisca magari un po' vabbè non c'è bisogno no me ero stupito me ero stupito vabbè penso influisca anche la roba del remake a manetta no aspetta i remake che stanno uscendo però dipende perché anche in realtà è come ero spiegato Resident Evil 4 senza senso ferma di Dead Space Resident Evil 4 il più recente che ho giocato è Resident Evil 2 remake perché non è il miglior remake che sia mai stato fatto però capite che è un problema questo se dobbiamo andare a prendere roba di 20 anni fa però è anche un po' giusto perché come cazzo fai Joan Bimbetto e magari ha recuperato il 7 e l'8 vuole capire la storia dei precedenti capitoli e deve giocare il 2 originale è tosta Giorgio c'era Legnoso c'era Leon per girarsi e scappare da uno zombie ci metteva in quarto no 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 ma io non so no firmati io ero contro il remake poi li ho giocati e ho detto cazzo ne dovrebbero fare di più perché i giochi di adesso ne faranno perché i giochi di adesso perdono di qualità in confronto a questi andiamo avanti andiamo avanti buonasera ciao buonasera allora la prima domanda è per Giorgio ti è mai successo di trovarti a giocare un gioco davvero bello ma bellissimo per colpa però della community ti sei trovato diciamo forzato a doverlo abbandonare bellissima domanda dalla community a doverlo abbandonare ce n'è uno per forza non è possibile non ci sia lo sai credo il primo world lo stavo per droppare ti dico la verità no quello no io sì mi scassavano il cazzo cosa dare io non ho capito il primo è il The Ring il primo è il The Ring volevano che allora perché è nato Lardo perché ora mi alzo chi è Lardo Lardo è il personaggio su The Ring il personaggio più forte mai creato su ogni grande The Ring mai fatta non è Lardo eh chi non è Lardo è tutto allora Lardo Lardo io a un certo punto non lo controllavo più era lui a controllare me io ho creato questo personaggio orrendo la categoria più normi che c'era il samurai pure io ho fatto samurai samurai spada katana quella base più forte con il fendente di sangue pure e ho rotto tutto il gioco tutto non si è mai fermato un attimo è presente bossa serpente quella devi prendere per forza l'hai fatto senza io sono andato sotto e Lardo imperterrito perché la gente la gente mi scassava talmente tanto il cazzo con fai questo metti lo scudo metti vello leva questo fai questo e quell'altro che a un certo punto Lardo non ha capito più nulla e ha finito il gioco solo a catanate così tutto il tempo fu l'ignoranza il più forte bello sei tipo una sorta di Walker Texas Ranger dei cosi del giro di Alden Ring vabbè ma quello l'hai buggato no cari amici non l'ho buggato aspetta perché From Software si è scordata di programmare la lava intorno al boss ah che non faceva danno no tipo faceva un micro di danno e poi faceva così basta e te potevi continuare l'ho ammazzato così perché la lava non è che ti levava mezza vita o ti sciottava e quindi cazzi loro non so se l'hanno aggiustata l'hanno mai aggiustata ora ti sciottano è rimasto così è rimasto così prego scusa ti ho interrotto amore ti percorro allora un gioco bellissimo un po' difficile perché la mia idea di capolavori vabbè certo cioè poi community deve essere secondo me per forza un gioco multiplayer perché con i giochi single player non ho mai avuto questi problemi credo il primo Warzone ok cioè il primo Warzone l'hai dovuto diciamo hai dovuto smettere tra minacci di morte roba varia ho preso e l'ho mollato ma vaffacula sta merda è vero come ha fatto non mi ti mente subito tra l'altro buono no no però bellissimo perché mi ha detto bellissimo cioè come è un bel gioco però non è bellissimo è tipo mi sale il cazzo duro quando ci penso però sì quello credo ricordo ancora il battibecco che hai avuto con quei finti acri italiani che bello mamma mia quella super zaga che cringiata che cringiata guarda quella lì è la cosa di cui proprio io avrei dovuto lasciare il gioco lì cioè è successa questa cosa lo sai cosa faccio disinstall invece me lo sono portato avanti per mesi con sta carcassa sulla schiena mi sentivo tipo io che camminavo con sta roba dietro con sta massa metastica dietro boia e roba varia e poi me la sottolta e poi me la sottolta fortunatamente quando te l'ho sottolta cosa hai sentito? beh ho respirato bello serenità una bomba bene te invece Mastro ti è capitato un gioco del genere? perché è una domanda molto particolare sì è una domanda molto particolare che bravo l'utente no anche perché io ho sempre detto cioè chi mi vuol seguire mi segue cioè se non mi volete seguire cambiate canale nel senso se c'è un qualcosa che non vi piace di quel che faccio non siete obbligati a seguirmi quindi se quel gioco che sto giocando non vi piace beh quella è la filosofia più importante fondamentale per fare Twitch poi ci ho perso perché ci perdi spettatori ci perdi persone però io ho sempre detto voglio stare bene io voglio divertirmi nel giocare non voglio che non vendere l'anima al diavolo non voglio che sia un obbligo quello che sto facendo bravo né né imposto gioca questo né smetti di giocare capito cioè nel mio mondo twitchoso eccetera ho sempre ho sempre detto male come andato io nel mio canale capito quindi no non ho mai abbandonato un gioco per la commedia vabbè la democrazia è un meme dai ci guadagni salute sì sì no ma non è proprio un meme la democrazia su Twitch sì però per il resto oh ragazzi ma avete rotto il cazzo cioè leva leva metti ma metti ma vaffa culo c'hai altre domande altre robe sì un'altra domanda se possibile dimmi dimmi certo se esiste un gioco che rievoca in voi ricordi ed emozioni provate principalmente da bambino metta slag metta slag prego perché 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 masso diciamolo metta slag cazzo i centoni buttati non i centesimi ma i centoni buttati al mare al bagno impero a tirrenia dove cazzo è a giocare metta slag e tutta la gente intorno mamma mia che ricordi il metta slag 2 che era quello con gli alenoidi vero o era il 3 quale no il 3 il 3 che diventavi obeso però nell'ultimo livello dell'X c'erano gli alieni però erano gli alieni quelli allora è l'X no no vabbè non me lo ricordo i 3 c'erano gli alieni quelli giganti che arriva la stona una mona gigante stelle che cadeva sì è quello il 3 ok quello lì lì c'erano gli alieni ma erano in fondo i 30 coloni quanto ci ho giocato io metta slag appena guardo metta slag mi proprio è ancora bello oggi quella pixel art non è invecchiata l'X ancora ha dei boss dei riflessi soprattutto il fuoco ancora lo guardo quelle fiamme quelle luci perfette no no sono bellissime che poi io non ho nemmeno giocato gli ultimi usciti l'XX non è bellino perché hanno mozzato la pixel art per dare spazio agli sfondi che sembrano tipo pre-renderizzati no brutto invece era bello proprio la crudezza di quel l'ignoranza quindi sì metta slag te Giorgio Halo Halo no ragazzi per me per me Halo ogni volta che risento le musiche non ce la posso fare cioè i ricordi delle musiche tu te reso fino a Rich poi dopo Rich ok no io Crash Band di Cottuno perché mi ricordo ancora quando andavo a giocare a casa del Fattorini o a casa di Clizia sono stati i miei amici di infanzia più importanti e ci giocavo tutti i giorni e poi perdevo perché il primo soprattutto era difficilissimo poi era super rotto tipo per prendere la gemma non dovevi mai morire e prendere tutte le scatole quindi per un bimbetto era bello tosto per l'epoca ma noi ci hanno forgiato veramente in modo cattivo con i video sì guarda avevamo una bella base solida e cattiva eh sì quindi proprio tre giochi completamente scusami e te invece quale gioco Jack and Dexter playstation 2 ci sta sei di un'altra generazione sei più giovane di noi non ci ho giocato io sono 0-2 eh sì è stata la tua prima console PS2 presumo no Game Boy prima console oh aspetta però ce l'ho un altro gioco che me l'ero proprio dimenticato un gioco che conoscono i pochi Golden Sun eh no che cazzo dici ragazzi me l'ha fatto venire in mente ora sto gioco perché mi ricordo che ero chiusissimo per una lunghezza fuori di testa quel gioco mi ricordo con il cazzo di Avatar oh dio mio ero impazzito per quel gioco poi possiamo dirlo tutti tranquillamente ragazzi dai inutile nascondersi dietro un dito il gioco dell'infanzia del 90% di noi Pokemon vabbè porca miseria sì vabbè quello non possiamo dire che il più bello è Ore Argento per l'infanzia sono d'accordo con te per fatto della storia ma ancora oggi bagnano il naso a tanti giochi anche Scarlatto e Violetto è l'ultimo usciti sicuro ma tranquillamente e poi ti dico come adolescenza ti dico Dragon Quest 8 l'Odissea del Re Maledetto adolescenza sì diciamo pre-adolescenza dai diciamo così pre-adolescenza oh mio dio io adolescenza penso Final Fantasy Tactics io c'è solo Dragon Quest e Vice City basta tutto il giorno sì andavi lì così tutto il giorno io Final Fantasy Tactics l'ho finito 10 volte ce l'ho porca miseria vai Fable vedi però sei un boxaro è tutto xbox ragazzi Fable io lo prendevo come esempio per criticare Hogwarts Legacy ma cosa cazzo c'è ebbè sì ci siamo va bene amore mio grazie mille bellissime domande bella domanda ciao c'è un volo a power sì certo allora io praticamente faccio spesso le ranked su AVEX cazzo duaco tu con le situazioni in cui sta mi capita di trovare nemici che proprio mi stanno sul cazzo in una maniera assurda cioè guardo la leggenda e mi nervosisco e mi capita di pensare a qualcosa per spronarmi tipo non so a Goku Kaioken decima potenza tutti Goku comunque oggi l'esempio so che comunque durante le ranked bisogna avere mal sangue freddo essere calmi quando sei proprio nervoso che vedi quel bastardo a che pensi cioè cerchi di rimanere calmo ma come fai comunque sei pazzo e fatti vedere posso darti un consiglio post it con scritto non tiltare non pensare a Goku in Kaioken non credo serva a molto funziona io lo facevo ok io lo facevo quando mi dovevo ricordare delle cose perché andavo in transagonistica mi mettevo il post it tipo mangia mi mettevo il post it sotto attaccato nella parte bassa del monitor quindi quando giocavo mi capitava ogni tanto che facevo mi devo ricordare questa cosa o tipo guarda la minimappa guarda la minimappa tipo cose del genere finita di funzione bene rimedi di nonno power vai vai ma com'è fatta ricordavi stasso comunque grazie grazie c'è un altro intervento mi sa che abbiamo tempo per l'ultimissimo proprio ciao ciao ma smeratacci tua ah ciao tesoro com'è bello dici tutto grande io volevo chiedervi qual è il vostro rapporto con il fallimento poco domande fammi toccare o ancora con il tilting e il rage quit addirittura ma stai parlando del fallimento videoludico non nella vita sì 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 assolutamente allora tutto a posto vabbè allora vai iniziate voi ragazzi prego vai prego 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 allora io essendo giocatore giocatore assidio di Isaac il fallimento è tipo ormai è dentro le mie vene nel senso ogni due secondi muori ogni due secondi riparti rifai la solita cosa ogni due secondi eccetera eccetera e quindi ormai ho imparato soprattutto nel mondo nel videogioco ho imparato o a me marci sopra oh ha scureggiato questa ti sta mancando di rispetto scusate con la sedia ah la sedia ok un paio di olio e ho imparato a tiltare dentro basta cioè nel senso dico vaffanculo sei un cretino sono un cretino basta stop riparto ho questa grande capacità del che in chat da me me lo dicono sempre ma come cazzo fai a non tiltare e io dico ragazzi ormai sono temprato da anni di Isaac da anni di bestemmie infinite quando giochi a un soul sei una passeggiata tipo si si io fai conto ho fatto la run livello 1 di 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 Elden Ring solo con lo scudino sei pazzo io sono pazzo ma guarda che se lui gioca e fa quella roba su Isaac quando vai sui souls è come se tipo non lo so stanno a fare una passeggiata davanti al Colosseo ed è di notte non c'è nessuno e sei tipo il capo del mondo vabbè fin quando non è troppo pesante che qui lì si parla di dilattazione temporale lo vivo benissimo sono molto tranquillo beato per te beato te io sono tipo cioè dentro di me e non fuori hai presente il codice da Vinci che c'erano quelli là che era la chiesa di Sion con il cilicio tipo così cioè io dentro di me sono così cioè fuori sono tipo glaciale dentro di me mi sto tipo uccidendo non capisco o cose del genere quindi e te da ci sono clip della PIL dove Mastro non è proprio tranquillissimo non so di cosa state parlando ok non è mai successo è stato generato in intelligenza artificiale non ero io io invece lo vivo malissimo come Giorgio solo che cerco almeno tipo come l'altra volta che era rottissimo a livello di di air type che ho provato ho droppato perché mi stava veramente facendo ecco le cose ingiuste bravo lì mi incazzano le cose ingiuste mi fanno veramente incazzare perché se sbaglio io e ok tipo scusate se una cosa è totalmente random e te ora arriva un meteorite e ti prende poi cittivamente cattiva e ingiusta proprio nel gioco a me diverte quando mi cambiano sta roba sui souls no Giorgio ma ti può capitare un paio di volte se continuo a ritirare volte a cattarti ah ok così sì certo così impazzisco esatto lì smatto anch'io lì smatto però quando tipo perdevo tantissime volte a crash per prendere quelle merda a dire liquidi platino ripartivo zitto esatto però perdi il focus capito quindi non puoi tiltare se no non puoi riprovarci la volta dopo giochi male la volta dopo esatto quando quelle cazzo di scatole di polar che poi hanno fixato gli stronzi sì sì perché avevo ragione la gente diceva no perché non è buono non è buono ragazzi non scoppiano tutti insieme lo facevano in crash 2 qui ci devi passare attraverso preciso infatti poi l'hanno l'hanno fixato ah hanno fixato l'hitbox proprio adesso ci passi anche vicino scoppiano tutti sì 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 easy mode va bene delirium per esempio è veramente da figli troia delirium col fatto che è tutto random eccetera che non hai ci sono proprio momenti delirium non so se lo sai è uno dei boss finali di isaac e praticamente lui a caso fa cose a random proprio prende e randomizza e ti si può teletrasportare addosso senza che tu possa fare niente ovviamente il danno lo prendi per forza capito non puoi evitarlo immagina poi i personaggi che hanno solo un hit e poi muoiono perché ci sono ci sono personaggi che hanno che sclero una roba del genere e lì li bestemmi sono sclero capito bene c'è altro è mai successo è capitato di spaccare qualcosa per il termosifone facevo una partita al rocket league ma ti parlo di tanti anni fa presi un gol sì sì lo facciamo o non mi ricordo tirai un cazzotto al termosifone accanto a me l'unico cazzotto che ho tirato in vita mia per i giochi eccetera ho rotto il termosifone cioè era già pericolante gli ho tirato l'ultimo cazzotto quello decisivo e ho cominciato a perdere acqua dappertutto è un attimino di panico però l'unica volta te invece Giorgio? mai successo al massimo l'ho rotto perché ho sbagliato io ho dato una botta niente involontariamente sì non mi è mai capitato di sbroccare per qualcosa e lanciare un pezzo del mio equipaggiamento allora io non ricordo di oggetti spaccati ma sicuramente tanti cazzotti alla scrivania io faccio do cazzotti alla scrivania spesso mi sono fatto male alla mano io per i meme però io? per i meme eh no no io seriamente perché se no rimango nervoso do cazzotti alla scrivania spesso mi sono fatto male però non mi ricordo di pad pad non credo no pad mi hai tirato non me lo ricordo nei taschiere no ma bisogna ricomprarlo dove vai a ricomprare il pad un casino ragazzi no no un casino bene grazie mille tesoro di nulla ciao 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 abbiamo tempo per l'ultimissimo intervento però abbiamo tre minuti vai attenzione l'ultimo l'ultimo dai quanta gente oggi quanta gente c'era milioni tantissimi per me vai 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 chi è ciao io sono zione ciao zione bella zione ciao io avevo due domande una sul single player e una multiplayer vai 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 una probabilmente solo giorgio mi risponderà quella single player è se avete mai avuto a che fare con giochi che leggendo i trofei magari inizialmente non avevate voglia di platinarli però questi trofei presentavano delle sfide interessanti che vi hanno invogliato a investire il tempo di platinarli e viceversa se invece c'erano giochi che avete visto i trofei avete visto ne so raccogliete 100 piume vi ho detto vabbè questo gioco mi piaceva ma platinarlo preferisco di no allora se posso dire la mia quella delle 100 piume mi è capitata l'ho fatta non Assassin's Creed 1 ma affanculo quello che hai combinato con quel gioco pure il 2 infatti il 2 ho preso ho detto ma che visifila se ti posso dire la verità però no non a desistere così no in verità io non ho mai guardato i trofei mai neanche io magari volevo farli per esempio per Assassin's Creed 1 perché il gioco mi aveva preso tanto ma i trofei facevano veramente cagare di Assassin's Creed 1 cioè ripensarci ora dico ma perché ho voluto prendere le piume in Bangladesh in Marrakesh Baghdad e roba varia perché cioè era terribile io non ho mai giocato in Assassin's Creed quindi non so cosa è bello fino a Revelations poi dopo puoi buttarlo scusate a tutti i fan di Assassin's Creed io invece mi ricordo ancora le sfide più belle sono legate al platino di Resident Evil 1 remake perché avevano delle sfide molto interessanti tipo la run con nemici invisibili eh? sì praticamente i nemici non li vedevi erano tutti invisibili li potevi vedere attraverso specchio riflessi ma non in tutte le stanze c'erano quindi non li vedevi dovevi memorizzarti la posizione dei nemici e capire dove erano terribile come roba eh ma a un certo punto ma pure i boss? oddio mi pare di sì mi pare di sì questo non me lo ricordo poi la run solo coltello e se ti giochi bene il gioco e te lo impari tutto perché io mi ero fatto il foglio con il percorso da fare più rapido ce n'ho guardato Guido fa tutto per conto mio quello è una figata veramente è stato affidissimo bello è stato ossicato quello è una figata e puoi battere il gioco sconfiggendo solamente un nemico che è il primo Crimson Head e poi i boss ce la puoi fare col coltello se metti al facile e poi la run senza cure la run senza salvare lì c'hai l'ansia quello è per il platino quello è per i trofei in più sono trofei anche interni al gioco che ti sbloccano armi particolari ah è vero c'era questa cosa su Resident Evil me lo ricordo sul 5 i trofei di Resident Evil sono i più belli perché innanzitutto sono paralleli al gioco e poi soprattutto se fai le run nell'ordine giusto riesci a fregarlo tra virgolette e darti dei power up per le run successive però vedete questa è una figata secondo me incentiva di più che tu sblocchi qualcosa pure a livello magari anche estetico che a prendere il trofeo bravo hai preso 100 piume in Bangladesh complimenti sticcati questa è la base del roguelike certo sì sì è vero questa è la base del roguelike allora Cizzacchino sta commentando in chat e sta dicendo adesso sto platinando Resident Evil 0 allora amico mio ho solo un consiglio molto prezioso quando iniziano a spuntare le prime rane che hanno il colpo con la lingua che ti one shottano perché ti ingoiano tieniti sempre il secondo personaggio vicinissimo perché se c'è la rana che è mi raccomando ce ne sono due uno vicino al muletto che ti serve per alzare e trovare l'oggetto sotto e la seconda sulla diga che spesso arriva spesso no a volte salta sulla diga e ti one shotta tieniti sempre il secondo personaggio perché appena prende con la lingua un personaggio col secondo vai lì e la coltelli perché se no fine della rana e c'è il trofeo dove non devi mai morire stai attento stai attento ok perfetto ok benissimo poi invece Mastro ma chi te mi sono dimentica la domanda è il trofeo che mi pare che ti è piaciuto più e quello che ti ha fatto desistere i trofei ti hanno voglia da platinarli ah ok no praticamente l'avevo già risposto prima dicendo appunto della cosa di Isaac Isaac giocandolo ti porta ti porta automaticamente a platinarlo perché ogni volta che giochi ogni volta che fai quell'obiettivo a cui manca che manca quel personaggio ti sblocca cose sbloccandoti cose tira trofei morale della favola è tutto un loop che ti porta alla fine al platino quindi io per esempio non ho mai visto non mi sono mai messo a guardare cosa mancava solo alla fine quando avevo completato tutte le cose con tutti i personaggi sono andato a vedermi quale oggetto mi mancava per prendere diciamo il platino altrimenti se no ci avrei messo chissà quante ore sì perché magari alcuni sono proprio specifici di arrivare in un determinato punto e prendere una cosa sì sì ma ci sono alcune cose su Isaac che non sono nemmeno spiegate cioè tipo quello che devi fare questo boss in 20 minuti non c'è scritto da nessuna parte capito quindi o lo sai o lo sai o sono cazzi tua capito seconda domanda al volissimo seconda domanda è sempre stavolta sul multiplayer io qua raccontando un po' anche di quella che è stata la mia esperienza il multiplayer online non ho iniziato a vivere grazie all'O3 e volevo proprio sapere quando io ancora giocavo all'O3 non vi era ancora tutta questa informazione online quindi non esisteva il meta non esistevano le guide ognuno doveva vincere e migliorarsi da se stesso era una sfida contro se stessi ogni volta per arrivare in cima plexando io ho fatto 50 in low wolf però ma i coglioni mi divertivo da solo a parte questo come hai vissuto magari anche tu Giorgio il passare da doversi arrangiare per essere più forti a molte persone che adesso si trovano la pappa scotellata perché hanno già tutte le guide tutto il meta spiegato che gli permettono magari di avvicinarsi al podio però effettivamente quello non ti basta mai per raggiungere oltre però sembra quasi ormai diventato un meta didascalico ti dicono cosa fare e come fare è perché fa views sei stronzo se le fai no perché fa views a me mi hanno sempre chiesto di fare guide per Fortnite tipo di spiegare quello che faceva e roba varia io non l'ho mai fatto perché credo che quella roba sia inutile ma non nel senso di fare la roba didascalica se tu mai hai vissuto tu come giocatore non come content creator no no esattamente per questo sto facendo l'esempio di io non ho mai fatto quella roba perché se tu vuoi arrivare a un certo livello non credo che sia utile se tu hai già una buona base quello serve se non hai basi secondo me se tu hai già una buona base non ti serve a niente quella roba è come le classiche default dei vari giochi tattici le classiche default delle studi su youtube dalle clip che la gente ha fatto e che spiega che si fa così così ma poi quando vai in gioco si gioca tutto in un altro modo non puoi fare una default perché è prevedibile ed è conosciuta e quindi devi tu utilizzare il tuo cervello per capire come mettere le abilità quindi diciamo che è proprio quella la cosa lì però stai parlando nel pro gaming si no ma in generale gioco multiplayer ad alti livelli cioè gioco multiplayer ad alti livelli quelli che ti dicono le guide e roba varia secondo me sono una roba proprio per beginner entry level cioè quello che ti dice su valorant non devi crauciare quando spray quella è una roba ti devi accucciare quando spari in full auto con l'arma ok quando fai una raffica con l'arma quelle sono permettetemi cazzate chi vi dice questa cosa perché poi quando ci andiamo a spostare e andiamo a vedere i pro player che giocano i massimi livelli tutti si accucciano quando sparano quindi tu dici ma perché mi hanno detto una cosa del genere è perché ovviamente bassi livelli non mirano alla testa quindi tu abbassandoti ti prendi il colpo in faccia capito è per quelle ma dura fino al platino una roba del genere quindi capisci è proprio una roba entry level è più una cosa che molti utilizzano questa scusa per generare views e quindi creare come un fatto che ci sono degli step che tu devi colmare per arrivare a quel punto a quel traguardo e dopo un po' non servono più invece devi ragionare guarda te esatto sei in grado di farteli da solo questi ragionamenti certo non ti serve più la guida bene amico mio grazie che sei stato l'ultimo intervento di stasera approfitterei per l'ultima cosa per salutare tutti i miei amici diabetici saluto agli amici diabetici sono stati più sfortunati di noi ma li abbracciamo forte grazie sempre fortissimo grazie a voi dagliero ciao 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 allora ragazzi grazie di essere stati con noi non mancate dopo perché a parte il gaming parlerò con un capitolo da NER Cultura extra proprio subito dopo Radio Tomodachi tempo di salutare i miei ospiti su The First Slum Dunk senza spoiler quindi potete rimanere tranquillamente perché il 10 esce il film ufficialmente al cinema io finalmente posso parlarne senza problemi perché è scaduto l'embargo quindi ma mezzanotte del 9 capito la gente ancora non ci è andata tocca a me dio meo comunque io voglio ringraziare i miei ospiti Giorgio Power e Il Mastro potete trovare Giorgio su Twitch e Il Mastro con il nome Il Mastro Z quindi seguitelo scopritelo e tutto il resto grazie di essere venuti qua grazie di avermi fatto compagnia è stata una puntata bellissima grazie anche a chi è intervenuto perché sono stati tutti interventi molto interessanti belle domande io vi do appuntamento per Radio Tomodash ovviamente alla prossima settimana sempre alle 21.45 ci sarà Jody Cecchetto insieme a ogni settimana però da quello che ho capito a così c'è Jody Cecchetto no 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 solo la prossima Jody Cecchetto più Cecchetto senior che verranno qua a parlare di vecchi media e nuovi media a confronto quindi fatti raccontare qualcosa del periodo Berlusconi cosa accadeva capito secondo me è interessante è lore quella quindi la televisione a confronto con tiktok e viceversa e quindi se volete intervenire come al solito il 19 del venerdì prossimo facciamo i provini e se volete intervenire alle 22.45 vi facciamo entrare Jody Cecchetto ci porta una sega ma Cecchetto senior è una figura leggendaria infatti la puntata è costruita solo su di lui ci porta una sega del figlio fanculo Jody sono due grandi tutte e due ciao ragazzi ci vediamo fra un momento per The First Slum Duck grazie grazie mille ciao ciao